Padre Ferrapont, la mattina presto, ancora prima di giorno, Agiosha fu destato. Lo Starec si era risvegliato e benché si sentisse estremamente debole, aveva voluto passare dal lettuccio alla poltrona. Era d'una lucidità perfetta. Il suo viso, purtanto estenuato, era chiaro, soffuso quasi di gioia e lo sguardo era lieto, affabile, invitante. Può darsi che non vivrò neppure questa giornata che incomincia, disse Agiosha. Quindi manifestò il desiderio di confessarsi e di comunicarsi senza indugio. Suo direttore spirituale era sempre stato padre Paesii. Somministrati i due sacramenti, ebbe inizio l'estrema unzione. Si erano radunati gli eromonaci e la cella man mano si era riempita di monaci dell'asceterio. Intanto si era fatto giorno. Cominciarono a sopravvenire anche dal convento. Quando la cerimonia ebbe fine, lo starec manifestò il desiderio di accomiatarsi da tutti e di dare un bacio a ciascuno. Data l'angustia della cella, quelli che ci erano venuti in precedenza uscivano e cedevano il posto agli altri. Agiosha si teneva in piedi presso lo starec, che di nuovo era andato a sedersi nella poltrona. Per quanto le forze glielo permettevano, egli parlava e ammaestrava. La sua voce, sebbene debole, era ancora abbastanza ferma. Per tant'anni vi ho ammaestrato, e quindi per tanti anni vi ho parlato ad alta voce, che quasi mi è diventata un'abitudine parlare, e parlando ammaestrarvi. A tal segno che tacere mi riuscirebbe quasi più difficile che parlare, padri e fratelli miei cari, perfino adesso, con tutta questa mia debolezza. Disse in tono scherzoso, scrutando con tenerezza coloro che gli si affollavano intorno. Agiosha si rammentò in seguito qualche cosa di quanto gli disse allora, ma sebbene parlasse in modo intellegibile e con voce pur abbastanza ferma, il suo discorso era però piuttosto sconnesso. Parlava di tante cose, da sembrare che volesse dire tutto, esprimere ancora tutto prima del momento fatale, quanto non era riuscito ad esprimere durante la vita. E non soltanto per ammaestrare, ma come per una brama di dividere la sua gioia e la sua esultanza con tutti e con ciascuno, effondendo ancora una volta nella vita il suo cuore. Amatevi l'un l'altro, padri, ammoniva lo Starec, secondo quanto si rammentò in seguito agiosha. Amate le creature di Dio. Noi non siamo più santi dei secolari, per il fatto di essere venuti qui a rinchiuderci fra queste mura, ma anzi, ognuno che è venuto qui, per il fatto stesso che ci è venuto, ha riconosciuto di essere peggiore di tutti i secolari e di chi che sia sulla terra. E quanto più a lungo poi vivrà il religioso fra le sue mura, tanto più caldamente dovrà riconoscere questo. Già che, in caso contrario, non ci sarebbe neppure ragione che gli fosse venuto qui. Quando invece riconoscerà, non solo da essere peggiore di tutti i secolari, ma da essere, di fronte a tutti gli uomini, colpevole di tutti e per ciascuno, di tutti i peccati umani, collettivi e individuali, allora soltanto lo scopo di questa nostra vita cenobitica sarà raggiunto. Sappiate, infatti, Odiletti, che ogni cenobita come noi risponde senza meno delle colpe di tutti e di ciascuno sulla terra, non solo della generica colpa del secolo, ma ognuno personalmente per tutti gli uomini e per ciascun uomo vivente sulla terra. Questa consapevolezza è la corona della vita religiosa, come del resto di qualunque uomo sulla terra. Impero che i religiosi non sono già uomini diversi dagli altri, ma tali semplicemente quali tutti gli uomini della terra dovrebbero essere. Soltanto allora il nostro cuore saprà dilatarsi a un amore infinito, universale e insaziabile. Allora ciascuno di noi avrà la forza di conquistare il mondo intero con l'amore e, mediante le proprie lacrime, lavare i peccati del mondo. Ciascuno vigili intorno al suo cuore, ciascuno si confessi a se stesso instancabilmente. Del proprio peccato non si abbia timore, pur acquistandone la consapevolezza, purché non manchi la contrizione. Ma, patteggiamenti con Dio, non ne fate. Iterum, vi dico, non siate orgogliosi. Non siate orgogliosi di fronte ai piccoli e non siate orgogliosi neppure di fronte ai grandi. Non odiate coloro che pur vi respingono, che vi diffamano, che vi ingiuriano e che vi caluniano. Non odiate gli atei, i maestri del male, i materialisti, neppure i cattivi fra questi, non soltanto i buoni. Già che anche fra loro i buoni sono molti, specialmente all'epoca nostra. Ricordateli nelle vostre preghiere, così, salva o Signore coloro per i quali non c'è nessuno che prega e salva ugualmente coloro i quali non vogliono pregarti. E, soggiungete subito, non per orgoglio di me stesso, io ti prego di questo, Signore. Già che io stesso sono più abominevole di tutti e di ciascuno. E le creature di Dio, amatele. Non lasciate che il greggio cada in mano ai nuovi venuti, giacché, se vassopirete nell'accidia e nella vostra trascuranza orgogliosa, e soprattutto nella cupidigia, sopravverranno da tutte le parti del mondo e vi strapperanno di mano il greggio vostro. «Predicate al popolo il Vangelo, ininterrottamente! Non fate malversazioni! Argento e oro non amateli, non accumulatene! Abbiate fede e sostenete la vostra bandiera! Brandite questa ben alta!» Lo Starec, si noti, parlava in modo più frammentario che non abbiamo esposto qui, secondo gli appunti che ne prese in seguito Agiosha. A momenti cessava di parlare del tutto, come per rimettersi in forza e ansimava, ma rimaneva immerso in una specie d'esultanza. Mi prestavano ascolto commossi, sebbene molti si meravigliassero delle sue parole e si accorgessero delle oscurità. Più tardi tutte queste parole furono tenute a mente. Quando Agiosha per caso si allontanò un momento dalla cella, fu colpito dallo stato di agitazione e di attesa dei monaci, che si affollavano nella cella e nei pressi di questa. Quello stato di attesa era in alcuni quasi turbolento, in altri solenne. Tutti attendevano qualche cosa di imminente e di sublime, subito dopo il trepasso dello Starec. Soprattutto, se vero, era il viso del vecchio ioromonaco Paesii. Agiosha non avrebbe lasciato la cella se non fosse stato segretamente chiamato, per tramite di un monaco, Darachitin, sopraggiunto dalla città con una strana lettera per Agiosha da parte della signora Kociaglova. Costè comunicava ad Agiosha una curiosa notizia, che giungeva straordinariamente a proposito. Si trattava di questo, che ieri sera, fra le devote donne del popolo venute a venerare lo Starec e a chiedergli la benedizione, si trovava una vecchietta della città, certa Prociorovna, vedova dell'ufficiale. Essa aveva domandato allo Starec se fosse lecito iscrivere il nome del suo figliolo Vasenka, che era partito in servizio per la lontana Siberia, per Irkusk, e già da un anno non dava più notizie di sé, come se fosse morto, nel registro delle messe per i defunti. Al che lo Starec si aveva risposto severamente, proibendole la cosa e definendo una simile commemorazione, una specie di stregoneria. Ma poi, perdonandola per l'ignoranza, aveva aggiunto, come se guardasse nel libro del futuro. Così si esprimeva la signora Cioclacova nella sua lettera, altre parole di consolazione, che suo figlio Vasia era vivo di sicuro, e che o sarebbe venuto a trovarla al più presto, o avrebbe mandato a una lettera. Lei se ne tornasse a casa e restasse in attesa. Ebbene, incalzava la signora Cioclacova esultante, la profezia si era avverata, alla lettera, e c'era ancora dell'altro. Non appena la vecchietta era tornata a casa, subito, le era stata consegnata una lettera, arrivata per lei dalla Siberia. Ma questo non bastava. In col desta lettera, scritta in viaggio da Ekaterinburg, Vasia faceva sapere a sua madre che stava venendo di persona in Russia. Tornava in compagnia ad un funzionario, e tre settimane dopo l'arrivo di questa lettera, sperava di riabbracciare sua madre. La signora Cioclacova insistentemente e calorosamente supplicava agli oscia di riferir senza indugio al legumeno e alla comunità intera questo miracolo di predizione avveratosi ancora una volta. È una cosa che deve essere conosciuta da tutti. Da tutti, prorompeva la signora, ponendo fine alla sua lettera. La lettera era stata scritta a tirar via, in gran fretta, e l'agitazione della scrivente si rifletteva in ogni riga. Ma agli oscia non aveva ormai da comunicare più nulla alla comunità, già che tutti sapevano già ogni cosa. Rakitin, mandando il monaco a chiamarlo, aveva inoltre incaricato quest'ultimo di riferire, con la massima deferenza all'eminentissimo padre Paisi, che lui, Rakitin, aveva da parlargli di una certa questione, ma di importanza tale che non osava rimandargli neppure d'un minuto la comunicazione, mentre pure invocava umilmente perdono per la sua audacia. Siccome a padre Paisi il fraticello aveva riportato la commissione di Rakitin prima che ad agli oscia, così, quando giunse sul posto, non rimaneva ad agli oscia che di leggerla letterina e trasmetterla subito a padre Paisi, non per altro che come documento. Ed ecco che perfino quell'uomo così austero e diffidente, letta che ebbe, aggrottando il viso la notizia del miracolo, non potei dominare del tutto il sentimento che aveva nell'intimo. Gli occhi gli sfavillarono, le labbra gli si soffusero d'un grave e penetrante sorriso. Ben altro, vedremo, forse, sembrò sfuggirgli d'improvviso. Ben altro, vedremo ancora, ripeterono i monaci in coro. Ma padre Paisi, reaggrottando il viso, raccomando a tutti che almeno per ora non divulgassero in nessun modo la cosa, finché non fosse divenuta più sicura, già che grande è nei secolari la leggerezza. E il fatto sarebbe potuto accadere anche naturalmente, soggiunse con cautela, come per sgravio di coscienza, ma quasi non credendo neppure lui alla propria riserva, come se avvidero benissimo anche quelli che lo ascoltavano. Immediatamente, come si può indovinare, il miracolo fu risaputo da tutto il convento e anche da molti secolari venuti al convento per assistere alla messa. Ma più di tutti sembrò colpito del miracolo che si era avverato quel fraticello che da ieri era ospite del monastero, proveniente da San Silvestro, piccolo monastero nella regione di Obstorsk, nel lontano settentrione. Egli aveva ossequiato ieri lo starec, mentre c'era la signora Cioclacova, e indicando a lui la filuola risanata di codesta dama, gli aveva domandato in tono pungente «Come va rischiate voi a operare cose simili?» Fatto sta che ora il fraticello era alquanto sconcertato e quasi non sapeva più a chi prestar fede. Ieri stesso, verso sera, aveva fatto visita qui in convento a padre Ferrapon nella sua cella appartata dietro l'arniaio ed era rimasto colpito da quest'incontro che aveva prodotto su di lui una singolare e paurosa impressione. Quel vegliardo, padre Ferrapont, era appunto un vecchissimo monaco in signe cultore del digiuno e del silenzio, del quale abbiamo già fatto menzione come d'uno degli avversari dello starec Zosima e soprattutto dello stracezvo che egli riteneva una nociva e fatua novità. Era questo un avversario estremamente pericoloso, sebbene come cultore del silenzio non scambiasse quasi parola con nessuno. Era pericoloso principalmente per questo, che un gran numero di monaci parteggiava pienamente per lui e dei secolari che venivano in visita moltissimi lo veneravano come un gran giusto e un campione d'ascesi, se anche riconoscevano indubbiamente che si trattava di un puro folle. Ma era appunto questa follia che avvinceva di più. Dallo starec Zosima, questo padre Ferrapont, non c'era pericolo che si recasse, men che vivesse anche lui nell'asceterio, non lo infastidiva granché, però, con le regole ascetiche, appunto per il fatto che egli si comportava, né più né meno, come un puro folle. Era in età di 75 anni, se non di più, eppure se ne stava là, dietro l'arniaio dell'asceterio, in un angolo del muro, dentro una vecchia cella di legno, quasi sfasciata, che era stata posta là, in epoca remota, fin dal secolo scorso, per un altro celeberrimo cultore di digiuno e di silenzio, il padre Lona, vissuto fino a 105 anni, intorno alle prodezze del quale correvano fino ad oggi in convento e nelle vicinanze, molti curiosissimi racconti. Padre Ferrapont aveva finito con l'ottenere di sistemarsi anche lui, sette anni fa, appunto in quella celletta solitaria, che era né più né meno che una cappannuccia, ma veniva ad assomigliare molto a una cappellina, giacché racchiudeva una quantità straordinaria di immagini oblatorie, con lampade oblatorie accese dinnanzi in perpetuo, della custodia e dell'attensione delle quali era appunto incaricato padre Ferrapont. Il suo alimento, a quanto si diceva e corrispondeva a verità, consisteva esclusivamente di due libri di pane ogni tre giorni, non di più. Glielo portava di tre in tre giorni il monaco addetto all'arniaio, che abitava pure lì. Ma perfino con questo monaco apicultore, che gli faceva i servizi, era cosa assai rara che padre Ferrapont scambiasse una parola. Queste quattro libri di pane, in più delle specie consacrate, che dopo l'ultima messa domenicale gli inviava premurosamente il buon igumeno, costituivano il suo alimento in tutta la settimana. L'acqua nella brocca gli veniva però cambiata ogni giorno. Coloro che andavano a visitarlo lo vedevano rimanere assorto, alle volte tutto il giorno in preghiera, senza alzarsi di un ginocchio e senza girare lo sguardo. Se poi, qualche volta, attaccava discorso con loro, era breve, scattoso, bizzarro e sempre un po' rude. Erano però casi assai rari che egli discorresse coi sopravvenuti. Per lo più gettava là, sola sola, una qualche strana parola che sempre costituiva per il visitatore un minuscolo enigma e detto questo, per quante preghiere gli si facessero, non apriva più bocca per dar spiegazioni. Ordini sacerdotali non ne aveva, non era che un semplice monaco. Correva la strana diceria, tra la gente più ignorante si intende che padre Ferrapon fosse in rapporto con gli spiriti celesti e che con questi soltanto tenesse conversazione. Ecco perché con gli uomini taceva. Il fratticello Dobdorsk, inoltratosi in arniaio su indicazione del monaco apicultore, anche lui taciturno e accigliato, sarà fatto verso l'angoletto dove era la celletta di padre Ferrapon. Può darsi che vi parlerà, già che siete venuti di lontano, ma può anche darsi che non ne caverete niente, lo aveva preavvisato il monaco apicultore. Il fratticello era venuto innanzi, come poi raccontava lui stesso, col più profondo timore. L'ora era già abbastanza tarda. Padre Ferrapon stava seduto all'entrata della celletta, su una panchettina bassa-bassa. Sul capo gli stormiva leggero un enorme vecchio olmo. Era sceso il freschetto vespertino. Il fratticello di Obdorsk si era curvato Bocconi dinanzi al sant'uomo e aveva chiesto la benedizione. Vuoi forse che anch'io dinanzi a te o monaco cada Bocconi? Aveva esclamato padre Ferrapon rizzati su e quando il fratticello si era alzato benedicens et benedictus siediti qui donde il vento ti porta. Ciò che soprattutto aveva impressionato il povero fratticello era che padre Ferrapon a onta della sua indiscutibile insigne pratica del digiuno e in età tanto avanzata fosse ancora all'aspetto un vecchio robusto alto dritto senza ombra di curvezza fresco in viso asciutto ma sano indubbiamente si conservava in lui anche una forza notevole. Di complessione era addirittura atletico nonostante l'età veneranda non era nemmeno completamente incanutito e aveva ancora assai folti i capelli che dovevano essere stati nerissimi come pure la barba i suoi occhi erano grigi grandi luminosi ma straordinariamente sporgenti da fare addirittura impressione parlando batteva forte sulle o quanto al vestire aveva indosso un lungo armiac rossiccio di rozzo panno da galeotti e alla vita una grossa corda nudi il collo e il petto di ruvidissima tela divenuta quasi del tutto nera la camicia che da mesi non si toglieva spuntava di sotto l'armiac dicevano che portasse a carne sotto l'armiac catene di trenta libre quanto alla calzatura vecchi zoccoli sconquassati gli stavano ai piedi nudi da un piccolo cenobio della regione Dobdorsk da San Silvestro umilmente rispose il fraticello forestiero e coi fuggevoli occhietti curiosi se anche un po' spaventati osservava l'anacoreta ti sono stato al tuo Silvestro ci ho fatto dimora sta bene in salute il santo Silvestro il fraticello cominciò a impappinarsi gente stervellata siete voi che modo avete di osservare il digiuno la nostra dieta secondo l'antica regola ascetica è così ordinata di quaresima il lunedì il mercoledì e il venerdì in refettorio non si va a punto il martedì e il giovedì si distribuiscono alla comunità pan bianco decotto di miele more di rovo o cavolo salato farina d'avena intrisa a sabato zuppa di cavolo in bianco lasagne coi piselli e polentina al sugo tutto di magro alla domenica con la zuppa di cavoli pesce secco e polentina nella settimana di passione poi dal lunedì fino alla sera del sabato inclusa che fa sei giorni pane e acqua e si può cibare ziendì o verdura non bollita ma anche questa con moderazione non si può tuttavia prenderne ogni dì ma secondo è statuito per la prima settimana di quaresima così nel santissimo venerdì di passione non tocca si cibo alcuno e similmente il sabato santo digiuna sin sino a tre ore e indi si ciba poco pane e acqua e si bee un'unica tazza di vino per il santissimo giovedì di passione poi cibiamo verdura cotta senza olio e beviamo vino con qualche altra vivanda asciutta impero che già il concilio di la odicea circa il santissimo giovedì così proclama non è convenevole cose il giovedì dell'ultima settimana di quaresima il digiuno spezzare e si la intera quaresima maculare ecco come noi viviamo ma che cosa sono e comnia a confronto di voi padre venerando ringalluzzendo soggiunse fraticello conciossi a che l'intiero anno perfino il dì della santa pasqua voi non vi nutriate che di pane e acqua e il pane che a noi due giorni a voi basti tutta una settimana in verità è portentosa questa grande astinenza vostra oh i prugnoli dove li lasci domandò a bruciapelo padre ferrapon arrotando la r come se dicesse prrugnoli i prugnoli fecei quel fraticello stupito proprio sì io dal pane di costoro giro a largo perché non ne ho nessun bisogno e magari piglio per il bosco e là quei prugnoli mi sostento o con le bacche selvatiche ma essi qui non si discostano dal loro pane segno è che sono legati a satana al giorno d'oggi i sudicioni proclamano che tutto questo digiunare è vano arrogante e degno di porci al giudizio di costoro oh veramente sospirò il fraticello e i diavoli lì da loro le hai veduti domandò padre ferrapon da loro chi timidamente chiese spiegazioni il fraticello io la da Ligumeno mi cercai l'anno scorso per la santa Pentecoste e da allora non ci sono davvero andato più che vidi a chi gliene stava uno in seno acquattato sotto la tonaca che solum i cornicioni spuntavano a chi se ne affacciava uno dalla tasca con gli occhi guizzanti come se avesse paura di me chi ce ne aveva uno piazzato sul ventre proprio nel suo sporco bellico e cert'altri lo tenevano appeso al collo ben levigato e così lo portavano in giro e non se ne avvedevano voi li vedete si informò il fraticello vi dico che li vedo da parte a parte li vedo quando fui per riuscire dal legumeno guardo uno per sfuggirme si rimpiatta dietro la porta ma proprio di quelli madornali un metro e più d'altezza un codone grosso marrone lungo ed ecco che la punta della coda gli capita per l'appunto nella fessura della porta allora io occhio alla penna chiudo di botto la porta e gli ciacchiappo dentro la coda caccia uno strido e comincia a dibattersi e allora io a fargli sopra il segno della croce e per tre volte lo segnai detto fatto crepò come un ragno spiaccicato adesso di certo si sarà putrefatto lì in quell'angolo puzzerà anche ma già quelli non vedono non sentono niente è un anno che non ci vado più giusto a te che sei un forestiero rivelo certe cose tremende le vostre parole ma dite per claro epissimo padre rimbaldanziva il fraticello man mano corre su voi una fama gloriosa fino alle più remote contrade è vero che lo spirito santo è in comunicazione perpetua con voi viene giù a volo succede ma come viene giù a volo in forma di che l'uccello è lo spirito santo in forma di colomba quello è lo spirito santo ma questo è santo spirito il santo spirito è un'altra cosa può scendere anche in forma ad altro uccello ora di rondinella ora di cardellino ora anche di cincia come fate a distinguerlo da una cincia qualsiasi parla e come parla in che lingua umanamente ma che cosa vi dice ecco oggi mi aveva avvisato che un balordo sarebbe venuto a trovarmi e mi avrebbe rivolto domande insulse gran cose monaco tu vuoi sapere sono terribili le parole vostre grepissimo e santissimo padre tentennò la testa il fraticello nei suoi occhietti spauriti era apparsa però anche una certa incredulità lo vedi quest'arbolo domandò dopo una pausa di silenzio padre Ferrapon lo vedo padre Benedetto secondo te è un olmo ma ai miei occhi mi si presenta bene altrimenti e come dopo una vana attesa ruppe il silenzio il fraticello succede di nottetempo vedi quelle due rame di nottetempo di lì Cristo mi protende la mano e con quelle braccia mi cerca lo vedo bene è trepido tutto è tremendo è tremendo ma che c'è di tremendo se dite che è Cristo in persona gli è che mi vuole afferrare e portare su in cielo così da vivo nello spirito e nella gloria dell'ia o che non l'hai mai sentito mi vuole abbracciare e portare via sebbene il fraticello Dobdorsk quando fece ritorno dopo questo colloquio alla celletta assegnatigli presso uno dei monaci fosse discretamente sbigottito pure il suo cuore pendeva ormai decisamente dalla parte di padre Ferrapont piuttosto che da quella di padre Zosima il fraticello Dobdorsk stava anzitutto per il digiurno e ad un formidabile digiunatore della taglia di padre Ferrapont non era da stupire che mirabili cose apparissero le sue parole indiscutibilmente erano parecchio stravaganti ma sapeva il signore che cosa si nascondesse in quelle parole e poi già tutti i folli in Cristo parlano e agiscono in modo anormale quanto poi a quella coda di diavolo acchiappata nella porta era pronto a crederci con cordiale piacere non soltanto in senso allegorico ma alla lettera e oltre a tutto questo già in precedenza fin da prima che arrivassi al convento egli era assai mal prevenuto contro lo stracetuo che non conosceva altro che per sentito dire e lo riteneva fermamente sulle peste di tant'altri una perniciosa novità soggiornando quindi in convento aveva avuto modo di cogliere anche le segrete mormorazioni di elementi frivoli e ostili allo stracetuo e bisognava aggiungere infine che gli era di natura sua un monaco sfarfallone e sempre allerta con gran curiosità in corpo e per ogni cosa ecco perché la grande notizia del nuovo miracolo compiuto da padre Zosima lo aveva gettato in un tremendo scompiglio agli oscia ebbe a ricordare in seguito come fra i monaci che si accalcavano intorno allo starec e nei pressi della cella gli era balenata più volte sfarfallante da un capannello all'altro la figura dell'ospite Dobdorsk che a tutto tendeva l'orecchio e a tutti faceva domande ma in quei momenti poca attenzione prestava a costui e solo in seguito si risolvenne di tutto e a ben altro infatti aveva da badare lo starec Zosima che era stato sopraffatto di nuovo dalla stanchezza e si era riadagiato sul letto improvviso girando intorno gli occhi si era ricordato di lui e se lo era voluto accanto agli oscia immediatamente era accorso presso lo starec si trovavano in quel momento soltanto padre paesì e porfiri in novizio lo starec aperti gli occhi stanchi e data ad agli oscia un'occhiata intensa di punto in bianco gli domandò ti aspettano i tuoi figliuolo agli oscia si confuse non hanno forse bisogno di te hai promesso a qualcuno di loro ieri sera di andarci per oggi ho promesso sì al babbo ai fratelli e anche ad altre persone vedi un po' vacci dunque senza fallo non star afflitto sappi che non morrò prima di dire alla tua presenza l'ultima mia parola su questa terra a te dirò questa parola figliuolo a te la prometto a te figliuolo mio caro perché tu mi ami e intanto ora vada coloro a cui hai fatto promessa agli oscia senza indugio obbedì per quanto gravoso gli riuscisse allontanarsi ma quella promessa dello stare c'è di fargli udire l'ultima sua parola su questa terra e soprattutto il fatto che a lui agli oscia fosse stata così promessa squassava la sua anima di sultanza e gli cercò di affrettarsi in modo che finita ogni cosa in città potesse far ritorno al più presto in quella stessa occasione anche padre paesi gli diede la sua parola di viatico che produsse su lui un'impressione forte e inaspettata fu mentre erano usciti entrambi dalla cella dello starec ten sempre o giovane bene a mente così senza alcun preambolo cominciò padre paesi che la scienza mondana organizzatosi in una grande forza ha smontato pezzo per pezzo in quest'ultimo secolo segnatamente tutto quanto nelle sacre scritture c'era stato promesso di celeste e dopo la loro feroce analisi non è rimasto per i dotti del mondo nulla di tutto quello che prima era sacro ma essi hanno analizzato pezzo per pezzo e l'insieme non han saputo vederlo e anzi è addirittura stupefacente fino a qual segno siano stati ciechi e il tutto intanto sta dinnanzi ai loro stessi occhi incrollabile come prima e le porte degli inferi non prevarranno su di esso forse che non ha vissuto diciannove secoli forse che non vive anche adesso nei moti delle anime individuali e nei moti delle masse popolari perfino nei moti spirituali di loro stessi dico destiatei che han tutto distrutto esso vive come prima incrollabilmente giacché anche quelli che hanno rinnegato il cristianesimo e tumultuano contro di esso sono anche loro in essenza fatti immagine di Cristo e tali sono rimasti dato che fino ad oggi né la loro dottrina né l'ardore del loro cuore sono stati capaci di dar forma a un'altra immagine dell'uomo e della sua dignità superiore all'immagine indicata anticamente da Cristo e quante prove se ne sono tentate se sono risolte nient'altro che in mostruosità ten questo a mente in modo particolare o giovane perché al mondo tu sei destinato dal tuo starec che vi è mancando forse ricordando questa grande giornata non dimenticherai neppure le mie parole che ti ho offerte a guisa di affettuoso viatico già che giovane sei tu mentre le seduzioni del mondo sono gravi a portare e le tue forze non sonda tanto or bene e adesso va pure orfanello con questa parola padre Paesì gli impartì la benedizione uscendo dal monastero e rimurginando tutte queste parole inattese Agioscio capì a un tratto che in questo monaco severo ruvido finora con lui avrebbe trovato d'ora innanzi un amico insospettato e una nuova guida traboccante d'amore quasi che lo starec Zosima glielo avesse affidato sul punto di morire e chissà che qualche cosa di simile non ci sia stato realmente fra loro pensò a un tratto agli oscia quanto al dotto ammonimento che aveva udito Aurora poteva senz'altro considerarsi come la migliore testimonianza di quanto fosse ardente il cuore di padre Paesì egli sarà affrettato ad armare senza ritardi la giovane mente per la lotta con le seduzioni e a corazzare la giovane anima che gli era stata affidata di una corazza più forte della quale non avrebbe saputo immaginarne nessuna dal padre prima di tutto agli oscia andò a casa del padre sul punto di arrivare si ricordò che il padre la vigilia aveva molto insistito perché badasse di entrare di nascosto al fratello Ivan perché mai pensò d'improvviso a questo punto agli oscia se il babbo vuol dirmi qualcosa da solo a solo di nascosto è forse una ragione perché io di nascosto devo entrare probabilmente ieri così agitato voleva dire qualche altra cosa e non ci ha riuscito concluse fra sé non di meno fu molto contento quando aprendogli l'usciolino di servizio Marfa e Ignatevna Grigori come venne a sapere si sentiva male e stava in letto nel padiglione rispose alla sua domanda informandolo che Ivan Fiodorovic già da due ore era uscito e il babbo si è alzato sta prendendo il caffè rispose un po' asciutta Marfa e Ignatevna agli oscia entrò il vecchio sedeva là solo a tavola in pantofole con un vecchio cappottuccio indosso e scorreva con un occhio per distrarsi ma senza grande attenzione certi i suoi conti era solo in casa completamente Smerdyakov era pure uscito per far la spesa ma altro che i conti occupavano i suoi pensieri sebbene si fosse alzato per tempo su dal letto e avesse ripreso spirito aveva però un aspetto stanco e debole la fronte su cui nella notte si erano infiate enormi ecchimosi paonazze gli stava fasciata con un fazzoletto rosso anche il naso durante la notte si era fatto assai gonfio e anche lì erano affiorate parecchie ecchimosi acchiazze non grandi ma che bastavano a dare a tutto quel viso un'espressione speciale di rancore e di irritazione il vecchio ne aveva coscienza lui stesso e ostilmente allungò un'occhiata ad agli oscia che entrava il caffè è freddo esclamò seccamente non te ne offro io pure fratello stabbatina me la passo con zuppa magra di pesce e nient'altro e non invito nessuno e a che scopo sei venuto a informarmi di come vi sentite disse agli oscia già e poi ieri sera io stesso ti ho raccomandato di venire tutte assurdità quelle inutilmente ti sei scomodato io già lo sapevo dal resto che subito tu ti precipitavi il vecchio disse tutte queste cose in tono assai poco ospitale nel frattempo si era rizzato e con grande preoccupazione si fece allo specchio era forse la quarantesima volta dalla mattina a guardarsi il naso si mise pure a raggiustarsi sulla fronte il più bellamente possibile il suo fazzoletto rosso rosso è un po' meglio bianco se no darebbe un'aria ad ospedale rilevò sentenziosamente ebbene che novità l'ha da te che fa il tuo starec sta molto male forse oggi morrà rispose agli oscia ma il padre non lo ascoltava nemmeno e anzi la sua stessa domanda gli era subito caduta di mente Ivan è uscito disse di punto in bianco quello Amitka fa di tutto per togliergli la fidanzata e apposta si è stabilito qui soggiunse con rancore e contraendo la bocca girò gli occhi ad agli oscia ma forse ve l'ha detto lui stesso domandò agli oscia oh è un pezzo che l'ha detto cosa credi tu sono tre settimane che l'ha detto a meno che non sia venuto qui a sgozzar me chiotto chiotto per qualche motivo sarà pur venuto che dite mai perché parlate a questo modo agli oscia si stravolse tutto denaro non me ne chiede è vero ma certo che da me non buscherebbe un centesimo io caro il mio Alexei Fiodorovic quanto più a lungo è possibile ho intenzione di vivere a questo mondo mettetevelo bene in mente e perciò ogni centesimo me necessario e quanto più innanzi andrò tanto più mi sarà necessario insisteva camminando su e giù per la stanza con le mani ficcate nelle tasche del suo sciacquante sudicio cappotto di gialla calamandra estiva adesso io sono ancora un uomo ho 55 anni in tutto ma io voglio per altri vent'anni restare sulla breccia e quando sarò invecchiato allora diverrò ributtante e non verranno più le donne a trovarmi di buona voglia quello sarà il momento che i quattrinelli mi verranno buoni ed ecco perché adesso vado raggranellando sempre più sempre più per me e per nessun altro egregio figlio mio Alexei Fiodorovic mettetevelo bene in mente già che io nell'ordume voglio viverci dentro fino all'ultimo mettetevelo bene in mente nell'ordume c'è più gusto tutti lo diffamano ma tutti ci vivono dentro soltanto che tutti lo fanno di soppiatto e invece io a viso aperto e appunto per questa mia franchezza tutti i lordoni mi si sono avventati contro in quanto al tuo paradiso Alexei Fiodorovic io non voglio andarci mettitelo bene in mente e poi già per un uomo per bene andare nel tuo paradiso non è neanche una cosa decorosa ammesso pure che lassù ci sia a parer mio quando ti sei addormentato non ti svegli più e non c'è altro fatemi dire le messe se vi pare ma se poi non vi pare il diavolo vi porti ecco la mia filosofia iersera qui Ivan parlava bene per quanto fossimo tutti ubriachi Ivan è un fanfarone e non è mica vero che abbia quella grande erudizione ma non ha neppure nessuna speciale finezza di maniere tace ti ridacchia sul viso in silenzio ecco tutto quello che è buono a fare Agioscia lo ascoltava e taceva che ha da non parlare con me e se parla allora storce la bocca è una canaglia il tuo Ivan ma io con Grushka mi ci sposo subito subito ogni volta che voglio perché coi quattrini basta volere Alexei Fyodorovic e tutto si fa è proprio di questo Ivan ha timore e mi fa la guardia perché io non la sposi e apposta incita Mitka a sposarsi lui con Grushka così vorrebbe da una parte strapparmi Grushka quasi che io gli lascerei i quattrini se con Grushka non sposassi e dall'altra se Mitka si sposasse Grushka allora lui Ivan si piglierebbe per sé la fidanzata ricca capisci qual è il suo piano è una canaglia e tuo Ivan come siete irritato dipende dal fatto di ieri dovreste colicarvi sul letto disse Agioscia ecco qua tu mi dici così commentò il vecchio d'improvviso come se per la prima volta gli fosse balenato alla mente mi dici così e con te non mi sento stizzire con Ivan invece se mi avesse detto queste stesse parole io sarei andato in collera con te solo io ho avuto dei minuti un po' buoni e no del resto sono un uomo cattivo non siete cattivo siete tutto pesto sorrisi Agioscia ascolta quel brigante di Mitka stamane sono stato sul punto di farlo arrestare e anche adesso non so ancora che deciderò so bene che all'epoca attuale è venuto di moda considerare padri e madri come un pregiudizio ma credo che la legge salvo errore non permetta neppure nell'epoca attuale di trascinare i vecchi padri per i capelli e a calcagnate sul muso sbatterli per terra dentro la loro propria casa e per giunta poi vantarsi di tornare a finirli del tutto ogni cosa con tanto di testimoni io se ne avessi voglia potrei conciarlo per le feste potrei per quel che ha fatto ieri farlo subito arrestare dunque non volete perdonare proprio Ivan me ne ha dissuaso io a Ivan gli sputerei in faccia ma c'è sotto un certo giochetto che so io e curvandosi verso Ayosha continuò in un bisbiglio confidenziale poniamo che io lo facessi arrestare ma scalzone che altro non è lei verrebbe a sapere che l'ho fatto arrestare e subito correrebbe da lui se invece verrà a sapere per esempio stamattina stessa che lui mi ha mezzo accoppato di botte vecchio e debole come sono allora magari lo lascerà e verrà qui a trovarmi vedi un po' eh che caratterino abbiamo far sempre tutto l'opposto io le leggo dentro da parte a parte ma di lo berresti un sorsettino di cognac piglia un po' di questo caffè stepidito che io ti ci verso dentro un bicchiere di rum viene fuori fratello una cosetta squisita no non mi occorre grazie questo panetto si che me lo piglio se permettete disse Ayosha e preso uno di quei panini francesi da tre copè che se lo mise in tasca alla tonaca ma cognac non bevetene neppure voi consigliò ansiosamente scrutando il viso del vecchio hai ragione tu esaspera i nervi e pace non dà ma sai un bicchierino solo ecco lo piglio qua dalla credenzina aprì con la chiave la credenzina si versò un bicchierino beve poi richiuse e rimise la chiave in tasca basta così non sarà un bicchierino a rovinarmi ecco ora siete diventato anzi più buono sorrisse agli osce a te anche senza cognac ti voglio bene ma coi furfanti sono furfanti anch'io vanca non parte per cesmania perché perché deve star qui a spiare se darò molto a grushenka nel caso che venisse tutti furfanti credi pure che iva io proprio non lo riconosco non so proprio chi sia di dove è scappato fuori un tipo simile è proprio tutt'altra anima che la nostra e io dovrei lasciargli qualche cosa ma neppure testamento farò per lui mettetevelo bene in mente mitka poi lo schiaccerò come uno scarafaggio gli scarafaggi neri di notte io gli spiaccico con la pantofola appena ci monti sopra uno scricchiolo e via scricchiolerà così anche il tuo mitka il tuo mitka perché tu gli vuoi bene ecco tu gli vuoi bene ma pure non mi fa spavento che tu li voglia bene mentre invece se ivan gli volesse bene io avrei spavento per me che lui gli volesse bene ma ivan non vuol bene a nessuno ivan non è uno come noi codesti uomini come ivan son mica dei nostri amico mio sono polvere che si solleva una folata di vento e la polvere di leguerà ieri sera mi è saltata in mente una sciocchezza quando t'ho detto che oggi tornassi mi era venuto l'estero di sapere per mezzo tuo a proposito di mitka se nel caso che ora io gli sborsassi un migliaio di rubli magari anche due egli acconsentirebbe povero e miserabile com'è a togliersi di qui senz'altro per cinque anni o meglio ancora per trenta ben inteso senza grushenka rinunciando completamente d'ora in avanti a lei mi sono spiegato io io glielo domanderò mormorò agli oscia se si trattasse di tremila netti allora chissà tu parli a vanvera non bisogna ora domandargli nulla non c'è nulla da fare io ci ho riflettuto sopra quella è stata una sciocchezza ieri sera che scioccamente mi si è infilata nel boccino niente voglio sborsare un magnifico niente i quattrinelli miei mi occorrono per me stesso e il vecchio agitò la mano a mezz'aria riuscirò ugualmente a schiacciarlo come uno scarafaggio non dirgli niente altrimenti potrebbe ancora sperare e tu del resto non hai proprio niente da fare qui da me va pure questa fidanzata questa Caterina Ivanovna che con tanta premura mi ha sempre tenuto nascosta lo vuole ancora o no? tu ieri sera sei andato a casa sua mi pare essa non vuole lasciarlo a nessun costo eh già sono i tipi così che queste tenere signorine preferiscono scialacquoni e farabutti robetta che non vale un baiocco te lo dico io queste signorine pallide ben altra cosa oh se io avessi la gioventù e il viso che avevo allora perché io ero più bello di lui sui ventotto anni saprei trionfare antio come lui è un moscardino quello lì ma Grushenka tuttavia non lo avrà ti dico che non lo avrà io in melma voglio ridurlo di nuovo pronunciando quest'ultime parole era andato in collera vattene anche tu non c'è niente da fare per te oggi in casa mia seccamente tagliò corto Aglioscia si accostò per salutarlo e lo baciò sulla spalla perché fai così rimase un po' stupito il vecchio ci vedremo ancora per bacco o forse credi che non ci rivedremo nemmeno per sogno ho fatto giusto così casualmente e anch'io ho detto così giusto così e il vecchio lo rimirò in viso sta a sentire sta a sentire e gridò dietro viene una volta o l'altra al più presto viene a mangiare la zuppa di pesce ti farò cucinare una zuppa speciale non come questa d'oggi viene a ogni costo domani stesso stammi a sentire vieni domani stesso non appena agli oscia ebbe passato la soglia si avvicinò un'altra volta alla credenzina e scolò un altro mezzo bicchierino e questo basta borbottò fra le labbra dopo essersi raschiata l'ugola di nuovo chiuse la credenzina di nuovo ripose la chiave in tasca poi se ne andò alla camera da letto spossato si adagiò sul letto e in un baleno si addormentò entra in rapporto con gli scolari grazie a dio che di grushenka non mi ha chiesto nulla pensò agli oscia dal canto suo lasciando la casa del padre e avvicinandosi alla signora cioclacova altrimenti mi sarebbe toccato niente meno che di raccontargli l'incontro con grushenka di ieri sera agli oscia aveva la penosa impressione che nella nottata i due avversari avessero raccolto nuove forze e che i loro cuori col nuovo giorno si fossero di nuovo impietriti il babbo è esasperato e pieno di rancore ha scogitato qualche cosa e a quella sta aggrappato e dimitri che farà anche lui nella notte ha ripreso forza anche lui certo sarà esasperato e pieno di rancore e anche lui avrà finito col formulare qualche disegno ho assolutamente bisogno che oggi io riesca a pescarlo a qualunque costo ma gli oscia non poté svolgere a lungo i suoi pensieri e avvenne strada facendo un incidente che a prima vista non era di grande importanza ma pure lo colpì profondamente era appena sboccato in piazza e aveva girato nel vicolo che andava a riuscire in via Mikhailovskaya parallela alla via grande ma separata da questa da un piccolo canale tutta la nostra città intersecata di canali quando vide giù all'imbocco del ponticello un gruppetto di scolari tutti ragazzetti in tenera età dai 9 ai 12 anni al massimo tornavano a casa dalla scuola con i loro zainetti in spalla o con le borse di cuoio a tracolla certi in grembialone e basta altri col paltoncino e qualcuno in stivali alti con i rovesci ai gambali di quelli che piace tanto sfoggiare i ragazzetti un po' viziati dai genitori ricchi il gruppo era tutto intento a discorrere con animazione di qualche cosa stavano evidentemente prendendo consiglio agli oscia non era capace di passare con indifferenza accanto ai ragazzi anche a mosca gli accadeva così e sebbene i suoi preferiti fossero i bambini di 3 anni o giù di lì anche gli scolaretti di 10 o 11 anni gli piacevano assai e così per quanto pensoso fosse in questo momento fu preso ugualmente dal desiderio di svoltar verso loro ed attaccar discorso appressandosi là teneva lo sguardo a quei rossi animati visetti finché a un tratto si avvide che i ragazzetti avevano in mano ognuno una pietra e certi anche un paio di là dal canale poi a una trentina di passi dal gruppo si teneva accanto a uno steccato un altro ragazzo scolaro anche lui anche lui con la borsa sul fianco di non più di 10 anni alla statura e anche meno palliduccio malaticcio con due sfavillanti occhietti neri scrutava fisso e ben allerta il gruppo dei sei scolari che erano evidentemente suoi compagni usciti insieme con lui da scuola ma dovevano stare in disaccordo con lui Agiosha si avvicinò e rivolgendosi a un ricciuto biondo colorito ragazzetto in grembialino nero notò avvolgendolo d'un'occhiata quando io portavo la borsa come questa tua noi altri la portavamo sul fianco sinistro in modo che con la destra ci arrivassimo subito tu invece tieni la borsa sul fianco destro e ti riesce scomodo arrivarci senza nessun calcolo di scaltrezza Agiosha aveva preso l'avvio da questo rilievo pratico eppure per un adulto non ci sarebbe stato altro modo di attaccare discorso e si voleva entrare subito nella fiducia del ragazzo e tanto più dell'intero gruppo bisognava per l'appunto cominciare con qualche cosa di serio e di pratico e in maniera da trovarsi su un piano di parità perfetta Agiosha lo comprendeva distinto ma lui a mancino ribatte subito un altro dei ragazzi baldanzoso e robusto sugli undici anni tutte e cinque i rimanenti saranno sospesi con gli occhi ad Agiosha pure i sassi lui li tira di mancino commentò un terzo ragazzo in quello stesso momento un sasso venne a volo sul gruppo sfiorò appena il ragazzo mancino e passò oltre sebbene fosse stato lanciato con destrezza e con forza lo aveva lanciato il ragazzo di là del canale scorticalo piantaglielo in corpo Smurov gridarono tutti ma Smurov il mancino si pensava da sé a non farsi aspettare e subito ripagò il colpo tirando una sassata al ragazzo di là del canale non lo colse però il sasso batte in terra di là dal canale il ragazzo lanciò subito sul gruppo un'altra pietra stavolta proprio contro Agiosha e lo colpì abbastanza dolorosamente alla spalla il ragazzetto aveva le tasche tutte piene di sassi belli e pronti si indovinava a 30 passi di distanza alle tasche rigonfie del suo paltoncino quello ammirato a voi a voi proprio a voi apposta voi siete non è vero? Karamazov gridarono sghignazzando i ragazzi su tutti addosso in una volta fuoco e sei sassi in una volta volarono via dal gruppo uno colpì il ragazzo al capo e quello cadde ma in un baleno saltò su e furiosamente si mise a rispondere al gruppo a forza di sassate da un'altra parte dall'altra cominciò un incessante tiro incrociato molti anche qui del gruppo come venne a palesarsi avevano in tasca sassi belli e pronti ma che cosa fate non vi vergognate signori miei in sei contro uno ma voi lo ammazzerete gridò Josha era balzato in là e si piantò di contro alle pietre che frullavano in modo da far riparo con la propria persona al ragazzo di là del canale tre o quattro dei ragazzi per un momento si fermarono è stato il primo lui a cominciare gridò un ragazzo in camicia rossa con la sua esasperata voce infantile poco fa a scuola ha dato a Krasotkin una temperinata e gli ha fatto uscire il sangue Krasotkin non ha voluto far la spia ma quello bisogna appestarlo e perché siete voi forse che lo pigliate in giro eccolo va che vi ha spedito un altro sasso nella schiena vi conosce quello vociarono i ragazzi a voi tira adesso non tira mica a noi su tutti quanti un'altra bordata attento a non farci lecca Smurov e di nuovo incominciò il tiro incrociato stavolta ancora più accanito il ragazzo di là del canale fu colpito da un sasso al petto diede un lamento scoppiò a piangere e si buttò a correre risalendo su verso la Mikhailovskaya dal gruppo salzò un vocio ahhh hai avuto paura sei scappato strofinaccio di stoppa voi ancora non sapete Karamazov che vigliacco è quello là ammazzarlo sarebbe poco insistete un ragazzo in grembialone con gli occhi brucianti che era evidentemente il più grande di tutti ma che cosa fa domandò agli oscia è uno spione forse i ragazzi si scambiarono fra loro un'occhiata come di canzonatura voi pure siete diretto là per la Mikhailovskaya continuò quello stesso ragazzo e allora provate un po' ad andargli dietro ecco vedete si è fermato un'altra volta sta ad aspettare e guarda a voi proprio a voi guarda confermarono i ragazzi e voi allora domandategli se gli piace lo strofinaccio dei bagni turchi quello di stoppa tutto arruffato avete capito domandategli così scoppiò una risata generale agli oscia guardava i ragazzi e questi è lui non c'andate vi lascerà il segno il dos murof intorno al monitore signori miei dello strofinaccio di stoppa io non gli farò parole perché probabilmente è un modo con cui voi lo pigliate in giro ma io mi farò dire da lui la ragione per cui lo odiate tanto fatevela un po' dire fatevela un po' dire ruppero a ridere i ragazzi agli oscia attraversò il ponticello e si fece a risalire lungo allo steccato diretto al ragazzo rinegato da tutti badate gli gridarono dietro intorno al monitore quello non c'ha paura di voi quello vi dà addosso all'improvviso alla traditora come ha fatto a Krasotkin il ragazzo stava là ad aspettarlo senza muoversi dal posto vicinissimo ormai agli oscia si vide innanzi un ragazzetto di non più di nove anni debole e malcresciuto con un vicino allungato palliduccio magrolino e due grandocchi scuri che guardavano a lui con rancore portava malandato la sua parte un vecchio paltoncino che gli si era fatto grottescamente piccolo indosso le sue mani nude gli penzolavano fuori dalle maniche sul ginocchio di destra i calzoni avevano una gran toppa e sulla scarpa destra in punta dove è il ditone un gran buco che era stato evidentemente impiastrato di inchiostro a tutto spiano da tutte e due le saccocce del paltoncino rigonfie si tradivano i sassi raccattati agli oscia gli si fermò innanzi a due passi posando su di lui uno sguardo interrogativo il ragazzo indovinando subito dagli occhi di agli oscia che questi non voleva picchiarlo smise dal canto suo la sua aria di sfida e fu addirittura il primo a parlare io sono uno e loro sono sei tutti li pesterei da solo a solo disse bruscamente arrotando gli occhi c'è stato un sasso che ti deve aver colto assai dolorosamente rilevò agli oscia ma io a Smurov gliel'ho imbroccata in testa ribatté il maschietto loro là mi hanno detto che tu mi conosci e che c'è una ragione per cui mi hai preso a sassate domandò agli oscia il ragazzo lo guardò torvo io non ti conosco forse mi conosci tu non va costate a bruciapelo esasperato gridò il ragazzo senza però da parte sua muoversi dal posto come se aspettasse pur sempre qualche cosa e di nuovo gli occhietti gli erano sfavillati di rancore bene me ne andrò disse agli oscia io però non ti conosco e non ti piglio in giro loro mi hanno detto in che modo ti pigliano in giro ma io non voglio davvero arrivederci monaco con la bottoniera ai calzoni proruppe il ragazzo e col suo solito sguardo rancoroso e provocante seguiva agli oscia non senza essersi posto in atteggiamento di difesa prevedendo che agli oscia si sarebbe certo slanciato su di lui ora ma gli oscia si girò indietro gli diede un'occhiata e proseguì per la sua strada non aveva però fatto ancora tre passi che nella schiena dolorosamente lo colpì scagliato dal ragazzo il più grosso dei ciotoli che quello si trovasse in tasca ah è così tu tiri alle spalle hanno ragione quelli dunque a dire che viene addosso a tradimento si era di nuovo girato indietro agli oscia ma stavolta il ragazzetto più esasperato che mai tirò contro agli oscia un'altra sassata e proprio in faccia se non chi agli oscia fu svelto a schernirsi in tempo e il sasso lo colse al gomito come non ti vergogni io che cosa ti ho fatto esclamò egli il ragazzo muto e aggressivo sospettava una cosa sola ed ecco ora agli oscia si sarebbe slanciato su di lui vedendo invece che quello neppure adesso si muoveva divenne tutto furente come una piccola fiera scattò dal suo posto e s'avventò lui stesso su agli oscia il quale non fece a tempo a muovere dito e già il ragazzetto imbestialito abbassando il capo e agguantando con tutte e due le mani la sua mano sinistra dolorosamente gli addentava il dito di mezzo ci affondò dentro i denti e per dieci secondi non allentò la stretta agli oscia gridò dal dolore tirando a sé il dito quanto più forte poteva il ragazzo lo lasciò alla fine e balzò via alla distanza di prima il dito era malamente intaccato dal morso proprio accanto all'unghia a fondo fino all'osso scorgava il sangue e agli oscia cavò fuori il fazzoletto e ci avvoltolò ben stretta la mano ferita durò ad avvoltolare per quasi il tempo di un minuto il ragazzo il ragazzo frattanto stava lì e aspettava alla fine agli oscia sollevò su di lui il suo sguardo quieto bene disse vedi come è mai morso malamente così basterà direi e adesso dimmi che cosa ti ho fatto io il ragazzo sogguardò meravigliato è vero che io non ti conosco affatto ed è la prima volta che ti vedo sempre con la stessa calma seguitava agli oscia ma non può essere che io non t'abbia fatto niente se no non ti saresti accanito così con me senza ragione dunque che cosa ti ho fatto e di che sono colpevole di fronte a te dimmelo invece di rispondere il ragazzo d'improvviso scoppiò a piangere forte d'un pianto ad alta voce bruscamente fuggì via da agli oscia agli oscia gli andò dietro silenzioso verso la via Mikhailovskaya e ancora per un pezzo poteva vedere il ragazzo che correva in lontananza senza rallentare il passo senza voltarsi a guardare e sempre probabilmente piangendo così ad alta voce si ripromise di ricercarlo ad ogni costo appena ne avesse avuto il tempo e di chiarire così questo enigma che lo aveva straordinariamente colpito adesso però il tempo gli mancava dalle Choklakov in breve giunse alla casa della signora Choklakova una casa in muratura di sua proprietà a due piani di bell'aspetto fra le migliori della nostra cittadina sebbene la signora Choklakova passasse la maggior parte dell'anno in un altro governatorato dove aveva un suo possedimento o a Mosca dove aveva un'altra casa di sua proprietà anche qui nella nostra cittadina essa aveva di suo questa casa ereditata dai genitori e dai nonni non solo ma il possedimento che essa aveva nel nostro distretto era il più grande dei tre possedimenti suoi eppure era sempre venuta finora assai di rado nel governatorato nostro essa corse incontro ad Agiosha fin nel vestibolo avete avuto avete avuto la lettera sul nuovo miracolo rapidamente nervosamente lo aggredì sì l'ho avuta l'avete fatta passare l'avete mostrata a tutti egli ha restituito il figlio a una madre oggi egli morrà disse Agiosha mi è stato detto lo so oh quanto desiderio di parlare con voi con voi o con qualcuno insomma di tutte queste cose ma no con voi con voi e che peccato che io non possa proprio vederlo la città intera sta sotto sopra tutti stanno in sospeso ma ora voi non sapete che ora qui in casa nostra c'è Caterina Ivanovna ah questa è una cosa buona esclamò Agiosha così io potrò vederla qui da voi essa ieri mi aveva raccomandato che andasse ad ogni costo da lei stamattina so tutto so tutto ma detto tutto per filo e per segno quanto è accaduto in casa sua ieri sera e tutte quelle orribili cose con quell'essere là se tragique e io al posto suo io non so cosa farei al posto suo ma anche quel vostro fratello quel Dimitri Fyodorovic che tipo oh signore mio Alexei Fyodorovic io sto perdendo la testa figuratevi un po' di là adesso c'è vostro fratello ma non quello là non quello tremendo di ieri ma l'altro Ivan Fyodorovic sta di là a discorrere con lei si sta svolgendo fra loro un colloquio solenne e se voi sapeste che cosa sta avvenendo ora fra loro credete pure che è orribile vi dico io che è una specie di tortura è una favola orrenda a cui non si può assolutamente credere tutte e due si rovinano la vita non si sa perché e loro stessi lo capiscono e loro stessi ne godono io stavo aspettando voi stavo aspettando voi bramosamente quel che più importa è che certe cose io non posso sopportarle e ora vi racconterò tutto ma adesso c'è un'altra cosa che è più importante ah guarda ma ero perfino scordata che era la cosa più importante di tutte ditemi perché l'Ise ha una crisi isterica appena ha sentito che voi eravate venuto subito è stata presa da una crisi isterica mamma siete voi ora che avete la crisi e non già io cinquettò di improvviso per la fessura della porta alla vocetta di Lise dalla camera antigua la fessurina era sottile sottile e la vocetta era tutta a scatti proprio come quando si ha una tremenda voglia di ridere ma con uno sforzo supremo si riesce a dominare il riso agli oscia agli oscia volse subito gli occhi a quella fessurina e tutto lasciava pensare che Lise dalla sua poltrona sbirciasse per lì verso di lui ma questa è una cosa che gli non giunse a discernere niente di più facile Lise niente di più facile saranno proprio i capricci tuoi che faranno venire anche a me la crisi ma poi lei si sente così male Alexei Fedorovic tutta notte si è sentita così male con una febbre sempre a lamentarsi non so come ha avuto la forza di attendere la mattina e la venuta di Herzenstube lui dice che non può capirci niente e che occorre aspettare codesto e Herzenstube una volta viene qui e dice che non può capirci niente appena voi siete stato vicino a casa nostra lei ha dato un grido e ha avuto l'attacco e si è fatta trasportare lì nella stanza dove stava prima mamma io non sapevo affatto che lui stesse venendo e non è davvero per causa sua se son voluta passare in questa camera oh che bugia lise se Giulia è cursa a dirti che Alessiai Fedorovic stava venendo che proprio tu l'avevi messa di sentinella mamma tesoro mio non pecca davvero per troppo acume quel che state dicendo ma se volete riprendervi e dir subito una cosa molto intelligente allora spiegate cara mamma all'egreso signore te stai entrato Alexei Fedorovic che egli ha già dimostrato di non possedere un acume eccessivo per il sol fatto di essersi deciso a venire oggi in casa nostra dopo quello che è successo ieri e nonostante che di lui la gente rida lise è troppo questo che tu ti permetti e ti garantisco che io alla fine ricorrerò a misura di severità ma chi mai ride di lui io sono così felice che sia venuto egli ma è necessario ma è indispensabile assolutamente oh Alexei Fedorovic io sono terribilmente infelice ma che cosa avete dunque mamma tesoro ah questi tuoi capricci lise questa volubilità la tua malattia questa orribile nottata di febbre questo orribile ed eterno herzenstube questo soprattutto eterno 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 e poi tutto tutto e poi anche questo miracolo oh come ma impressionata come ma scossa questo miracolo Alexei Fedorovic e questa tragedia ora di là in salotto che io non posso sopportare non posso ve lo dichiaro fin d'ora che non posso commedia forse non tragedia ditemi il vecchio Zosima potrà vivere ancora fino a domani potrà vivere ancora oh mio dio che mi sta succedendo chiudo un momento gli occhi e vedo che tutto è assurdo tutto è assurdo io vi sarei molto grato la interruppe d'improvviso Yosha se voi potreste darmi una pezzuola pulita per infasciarmi il dito ma mi ci sono fatto una brutta ferita e ora mi dà un dolore assai noioso a Yosha si svoltichiò il dito del morso il fazzoletto era tutto intriso di sangue la signora Cioclacova diè un grido e chiuse gli occhi oh mio dio che ferita ma è orribile ma Lise non appena ebbe visto per la fessura il dito di Yosha subito d'impeto spalancò la porta entrate qui da me gridò in tono pressante imperioso bando ora alle sciocchezze oh signore ma perché dunque siete rimasto così senza dir nulla tutto questo tempo poteva rimanere dissanguato mamma ma dove ve lo siete fatto come ve lo siete fatto prima di tutto un po' d'acqua un po' d'acqua bisogna lavar la ferita immergela bene nell'acqua fredda in modo che il dolore cessi e tenercela dentro tenercela un pezzo presto presto un po' d'acqua mamma in una bacinella ma presto vi dico fu in tono nervoso la sua ultima parola era sconvolta dallo spavento la ferita di Yosha le aveva fatto un'impressione terribile vogliamo mandare a chiamare Herzogstube sfuggì di bocca alla signora cioclacova mamma voi mi uccidete il vostro Herzogstube arriverà qui e dirà che non può capirci niente dell'acqua dell'acqua mamma per amor di dio andate voi di là fate sbrigare Giulia che avrà combinato chissà che imbroglio e non c'è mai una volta che riesca a far presto ma presto mamma altrimenti io morrò si tratta di una sciocchezza esclamò a Yosha spaventandosi del loro spavento Giulia accorse con l'acqua a Yosha tuffò in acqua il dito mamma per amor di dio portate qua la filaccia la filaccia è di quell'acqua che brucia biancastra per i tagli come si chiama di là c'è c'è mamma lo sapete voi dov'è la boccetta in camera vostra nell'armadietto a destra c'è una boccetta grossa e la filaccia porto subito ogni cosa Lise basta che tu non strilli e non ti agiti guarda Alexei Fiodorovich con quanta virilità sopporta la sua disgrazia ma dove avete potuto ferirvi così crudelmente Alexei Fiodorovich la signora Czoklakova uscì in gran fretta era appunto quel che Lise aspettava prima di tutto rispondete a una domanda rapidamente disse ad a Yosha dove vi siete ferito così per favore dopo poi vi parlerò di tutt'altro ebbene a Yosha sentendo distinto che per lei questo tratto di tempo fino al ritorno della madre era prezioso affrettatamente tralasciando e abbreviando molte cose ma pur sempre in modo esatto e chiaro le riferì il suo enigmatico incontro con gli scolari quando l'ebbe ascoltato Lise batte le mani ma è possibile dico io è possibile ma è che voi e poi vestito così vi siate messo a dar confidenza a dei ragazzacci esclamò inquieta come se avesse addirittura qualche diritto su di lui ma anche voi allora siete un ragazzo il più piccolo dei ragazzi che esista a questo mondo però voi dovrete darmi qualche informazione su questo abominevole ragazzaccio e raccontarmi tutto perché qui c'è sotto un segreto e adesso alla seconda questione voi siete in grado Lisei Fiodorovic nonostante la sofferenza del dolore di parlare di nezie belle buone ma di parlarne con tanto di giudizio sono in grado sono in grado perfettamente e poi tanto dolore ormai non lo sento più dipende dal fatto che il vostro dito è nell'acqua bisogna cambiarla subito perché in un momento si scalda Giulia in un lampo porta un pezzetto di ghiaccio su da cantina e un'altra bacinella d'acqua oh adesso se n'è andata e io vengo al nocciolo immediatamente caro Lisei Fiodorovic fate il favore di restituirmi la lettera che avevo mandata ieri immediatamente perché da un istante all'altro può venire mamma e io non voglio no no con me la lettera non è vero l'avete con voi già lo sapevo che avreste risposto così voi l'avete lì in quella tasca io mi sono così rammaricata di questo stupido scherzo tutta la notte restituitemi subito la lettera ridatemela ma è rimasta laggiù ma voi non potete a meno di giudicarmi una ragazzina una ragazzina di quelle piccine piccine dopo quella mia lettera con uno scherzo così stupido io vi chiedo scusa dello stupido scherzo ma ma quella lettera dovete ad ogni costo portarmela se davvero non l'avete qui oggi stesso portatemela a ogni costo a ogni costo oggi non è assolutamente possibile perché io devo andare al convento e non tornerò da voi per un paio di giorni e forse per tre per quattro dato che lo stare cezzosi ma quattro giorni che cosa dite sentite avete riso molto di me io non ho riso punto oh come mai perché io ho creduto interamente a tutto voi mi offendete niente affatto come ho letto quella lettera subito ho pensato che tutto sarà proprio così perché io appena lo starezzosima sarà morto dovrò senz'altro lasciare il monastero quindi continuerò i miei studi e darò l'esame e quando si avrà l'età voluta dalla legge prenderemo e ci sposeremo io vi forrò bene per quanto non abbia avuto tempo di pensarci ho in mente però che una moglie migliore di voi non potrei trovarla e d'altronde lo stare ci mi ordina di prendere moglie ma se io sono un'infelice mi trasportano qua e là in poltrona accennò a ridere Lisa con un rossore che le avvampava le gote penserò io a trasportarvi in poltrona ma sono sicuro che in quell'epoca sarete guarita ma voi siete pazzo nervosamente ribatte Lisa da uno scherzo così guarda che fantasticaggini avete tirato fuori ecco mammina che forse viene proprio a proposito mamma come arrivate sempre in ritardo possibile che ci sia voluto tanto ecco anche Giulia che porta il ghiaccio Lisa non gridare la cosa principale è che tu non gridi io quando sento questo gridio che dovevo fare se proprio tu hai ficcato la filaccia in un altro posto io ho cercato ho cercato mi viene il sospetto che tu l'abbia fatto apposta ma io non potevo mica sapere direi che lui sarebbe venuto qui con un dito morsicato se no forse davvero l'avrei fatto apposta angelo mamma voi cominciate a dire certe cose proprio di una acutezza straordinaria lasciami perdere le cose che dico ma quante impressioni Lisa per questo dito di Alexei Fiodorovic e per tutto il resto oh caro Alexei Fiodorovic ciò che mi uccide non sono le cose prese una per una non è un herzenstube qualsiasi ma sono tutte in massa è tutto l'insieme ecco cos'è che non son capace di sopportare basta mamma basta con herzenstube lietamente risa Lisa svelta piuttosto a darmi la filaccia mamma e quell'acqua è semplicemente acqua vegeto minerale Alexei Fiodorovic ora mi è sovvenuto il nome ma è un disinfettante eccellente mamma figuratevi un po' nel venire qui si è messo a far la lotta con monellacci in mezzo alla strada ed è stato uno di quei monelli che lo ha morso dite voi non è anche lui un ometto piccino piccino e vi far mai possibile dopo un fatto simile che prenda moglie da che lui figuratevi un po' lui vuol prendere moglie mamma ve lo immaginate con tanto di moglie sai che cosa da ridere che cosa tremenda e Lisa continuava a ridere col suo sottile riso nervoso guardando furbescamente verso Josha oh via di che prendere moglie vai parlando Lisa e che c'entra questo e poi già a te non sta bene in nessun caso mentre invece quel ragazzo poteva anche essere idrofobo ah mamma ma ci possono essere ragazzi idrofobi come non ci possono essere Lisa quasi che io avessi detto una sciocchezza il vostro ragazzo era stato morso da un cane idrofobo era diventato un ragazzo idrofobo e così dovete finire col mordere a sua volta qualcuno intorno a sé oh come è stata brava a infasciarvi Alexei Fiodorovic io non sarei mai stata capace mi duele molto adesso adesso mi duele pochissimo ma forse sentite ripugnanza per l'acqua domandò Lise su via non insistere Lise io forse sono stata realmente troppo avventata a parlare del ragazzo idrofobo e tu subito ci arzigogoli sopra Caterina Ivanovna non appena ha saputo che eravate venuto voi Alexei Fiodorovic mi si è precipitata addosso essa vi aspetta ardentemente ardentemente ah mamma andatela voi sola che egli non può venire subito soffre troppo non soffro affatto posso venire benissimo disse Alyosha come voi ve ne andate così siete voi ma perché quando avrò finito di là verrò qui di nuovo e di nuovo potremo discorrere finché vi piacerà ma io avrei il gran desiderio di vedere senza indugi Caterina Ivanovna perché voglio in ogni modo essere di ritorno il più presto possibile oggi al convento mamma pigliatelo su e conducetelo via al più presto Alexei Fiodorovic non prendetevi la pena di tornare qui dopo veduta Caterina Ivanovna ma andatevene dritto dritto al vostro convento quella è la strada per voi e io voglio dormire non ho mai dormito stanotte ah Lisa e tutti questi sono i tuoi soliti scherzi ma magari facessi un sonno davvero esclamò la signora Cioclacova io non so in che cosa da parte mia mi tratterrò ancora per tre minuti se volete o anche per cinque mormorò allora Agiosha anche per cinque ma sbrigatevi dunque a condurlo via è un mostro questo Lisa tu sei uscita di cervello andiamo Alexei Fiodorovic lei è troppo capricciosa stamattina e temo di esasperarla ah che guaio combattere con le donne nervose Alexei Fiodorovic ma sapete potrebbe essere veramente che durante la vostra visita le sia venuta voglia di dormire come avete fatto a farle venire sonno così presto e che bella cosa sarebbe ah mamma com'è carino quel che dite ora vi do un bacio mammina in ricompensa e così pure io a te Lisa ascoltate Alexei Fiodorovic in tono misterioso e grave si affrettò a bisbigliare la signora Cociaclova uscendo con la Josha io non vorrei in nessun modo influenzarvi né sollevare questa cortina ma voi entrerete e vedrete coi vostri occhi tutto ciò che sta avvenendo là è una cosa orrenda la più fantastica delle commedie essa ama vostro fratello Ivan Fiodorovic ma da tutto per convincere se stessa che ama vostro fratello Dimitri Fiodorovic questo è orrendo io verrò con voi e se non mi cacciano via starò a vedere come finisce tortura in salotto ma in salotto il colloquio stava già terminando Caterina Ivanovna era molto eccitata benché mantenesse un aspetto risoluto nell'istante in cui sopravvennero Agliosha e la signora Cociaclova Ivan Fiodorovic si stava alzando per andarsene il suo viso era un po' pallido e Agliosha guardò a lui con inquietudine era infatti venuto il momento che per Agliosha si sarebbe risolto uno dei suoi dubbi un enigma inquietante che da qualche tempo lo tormentava fin da un mese fa gli era stato suggerito più volte da parte di più persone che il fratello Ivan fosse innamorato di Caterina Ivanovna e che soprattutto fosse realmente deciso a soffiarla a Mitia questa era sembrata ad Agliosha finora una cosa strampalata benché gliene venisse pure una grande inquietudine egli voleva bene a tutte e due i fratelli e gli faceva terrore una simile rivalità tra loro frattanto a bruciapelo lo stesso Dmitri Fyodorovic gli aveva detto chiaro e tondo ieri che era addirittura contento d'avere il fratello Ivan per rivale e che questa sarebbe una cosa che a lui Dmitri avrebbe giovato assai a che cosa gli avrebbe giovato ad ammogliarsi con Grushenka ma questa era un'azione che Agliosha riteneva disperata ed estrema Agliosha poi era stato sempre convinto ancora fino a stasera che Caterina Ivanovna amasse appassionatamente e incrollabilmente suo fratello Dmitri ma solo fino a ieri sera era stato convinto inoltre gli era sempre balenato il pensiero che essa non potesse amare uno come Ivan e amasse invece Dmitri proprio così come era nonostante tutta la stravaganza di un simile amore ieri sera invece durante la scenata con Grushenka di colpo era venuto a balenargli un pensiero diverso quella parola tortura pronunciata poc'anzi dalla signora Cioclacova lo aveva fatto quasi sussultare già che appunto stanotte nel dormiveglia dell'alba tutta un tratto rispondendo forse alle visioni del suo sogno aveva gridato tortura tortura e in sogno gli era tornata innanzi tutta notte la scena di ieri sera in casa di Caterina Ivanovna adesso l'improvvisa assicurazione della signora Cioclacova aperta e sicura che Caterina Ivanovna amasse il fratello Ivan e che da se stessa apposta in una specie di gioco in un bisogno d'autotortura si ingannasse e si tormentasse col suo falso amore per Dimitri come per soggezione a non so quale gratitudine aveva colpito Agliosha sì forse la verità vera sta proprio in queste parole ma in tal caso qual era dunque la posizione del fratello Ivan Agliosha sentiva con una specie di istinto che un carattere come quello di Caterina Ivanovna aveva bisogno di dominare e dominare ne sarebbe stato possibile su un uomo come Dimitri ma non davvero su uno come Ivan già che Dimitri soltanto sia pure a lunga scadenza sarebbe stato capace di umiliarsi alla fine di fronte a lei per la sua propria felicità come Agliosha avrebbe perfino desiderato ma Ivan no Ivan non sarebbe stato capace di umiliarsi di fronte a lei a parte che un simile umiliarsi non gli avrebbe dato la felicità tale era il concetto che Agliosha involontariamente era venuto in qualche modo a formarsi su Ivan ed ecco che ora tutte queste incertezze e supposizioni gli frullarono e gli lampeggiarono nella mente nell'attimo in cui poneva piede dentro al salotto gli lampeggiò anche un altro pensiero subitaneo e irresistibile e se costai non amasse nessuno né l'uno né l'altro noteremo che Agliosha sentiva quasi un pudore dei suoi pensieri di questo genere e se li rimproverava quando in quest'ultimo mese di tanto in tanto lo sorprendevano oh guarda cosa vuoi che io capisca d'amore e di donne e che competenza ho io a trinciare giudizi si fatti si diceva in tono di rimprovero dopo ognuna di queste sue idee o concetture ma intanto non era possibile non pensare un istinto gli faceva capire che ora per esempio nel destino dei suoi due fratelli questa rivalità era una questione troppo grave e che troppe cose ne venivano a dipendere un rettile si mangerà l'altro aveva sentenziato ieri il fratello Ivan irritato contro il padre e contro il fratello Dimitri ciò voleva dire che il fratello Dimitri agli occhi suoi era un rettile e forse da un pezzo era tale forse forse da quando il fratello Ivan aveva conosciuto Caterina Ivanovna erano parole del resto che Ivan si era lasciata sfuggire involontariamente ma appunto per questo erano tanto più gravi se così stavano le cose che pace poteva esserci mai non si moltiplicavano anzi i fomenti d'odio e di nemicizia nella famiglia e ciò che era soprattutto importante per chi doveva lui agli oscia sentir pietà e che cosa desiderare a ciascuno tutte e due gli sono cari ma che cosa desiderare all'uno e all'altro in mezzo a queste tremende contraddizioni e non guazzabuglio di questo genere era facile perdere ogni orientamento mentre il cuore di agli oscia non poteva sopportare l'incertezza zè che il suo amore era stato sempre di carattere attivo amare passivamente non poteva una volta che amava senz'altro si sentiva portato anche a dare aiuto ma per far questo bisognava fissarsi una meta bisognava saper con certezza ciò che per ciascuno di quei due fosse necessario e fosse bene e assicuratosi così della bontà della meta venire a dare a ciascuno l'aiuto che gli conveniva invece al posto ad una meta sicura non c'era che oscurità e confusione sotto ogni rapporto tortura di se stessi gli era stato detto ora ma che cosa poteva egli capire anche di questa autotortura nemmeno una parola in tutto questo guazzabuglio gli riusciva intellegibile alla vista di agli oscia caterina ivanovna rapida e lieta si rivolse a ivan fiodorovic che già si era alzato in piedi per uscire un minutino restate ancora un minuto solo voglio sentire il parere di quest'uomo nel quale con tutto l'essere ho fiducia caterina osipovna non andatevene neanche voi soggiunse girandosi alla signora cioclacova fece accomodare agli oscia accanto a sé e la cioclacova si sedì di fronte a fianco di ivan fiodorovic qui siete tutti amici miei tutti gli amici che ho al mondo amici miei tenerissimi cominciò appassionatamente con una voce in cui tremavano lacrime di genuino tormento e il cuore di agli oscia ad un tratto fu di nuovo con lei voi alexei fiodorovic siete stato ieri testimonia di quei momenti orrendi e avete veduto come mi sono comportata io voi non avete veduto ivan fiodorovic ma egli ha veduto che cosa abbia pensato di me iersera non so ma so questo soltanto che se dovesse ripetersi la stessa cosa oggi or ora ebbene io manifesterei gli stessi sentimenti che ieri gli stessi sentimenti le stesse parole e gli stessi atti voi li ricordate i miei atti alexei fiodorovic appunto voi mi avete frenata in uno di essi dicendo così sare fatta rossa e gli occhi li avevano sfavillato vi dico apertamente alexei fiodorovic che io non so che partito prendere sentite alexei fiodorovic non so neppure se amo lui adesso comincio a sentirne pietà cattiva testimonianza per l'amore se io lo amassi se continuassi ad amarlo allora forse non ne avrei pietà adesso ma anzi lo odierei la voce le tremò e qualche lacrima le brillò sulle ciglia a lioccia nell'intimo re brividì questa ragazza è giusta e sincera pensò e non vuol più bene a Dimitri è così proprio così sfuggì alla signora cioclacova aspettate cara cateina osipovna io non ho detto ancora la cosa più importante non ho detto a conclusione di tutto quel che ho deciso stanotte sento che forse la mia decisione è terribile terribile per me ma ho il sentimento che non la muterà più a nessun costo a nessun costo finché vivrò così sarà il mio caro il mio buono il mio vecchio e magnanimo consigliere e conoscitore profondo del cuore l'unico amico che io abbia al mondo Ivan Fiodorovic mi approva completamente ed esalta la mia decisione egli la conosce sì io la approvo con voce smorzata ma ferma esclamò Ivan Fiodorovic io desidero però che anche Agliosha o Alexei Fiodorovic perdonate se v'ho chiamato semplicemente Agliosha desidero che anche Alexei Fiodorovic mi dica in quest'occasione alla presenza di tutte e due i miei amici se io stia nel giusto o no ho un presentimento istintivo che voi Agliosha fratello mio caro già che voi siete il mio caro fratello ricominciò con trasporto afferrando la fredda mano di lui con la sua mano bruciante ho il presentimento che il vostro giudizio la vostra approvazione adonta di tutte le mie sofferenze saprà darmi la pace infatti dopo le vostre parole io mi acquieterò e mi farò una ragione di tutto ne ho il presentimento io non so che cosa voi mi chiediate disse Agliosha col viso in fiamme so soltanto che vi voglio bene e che la vostra felicità in questo momento mi sta più a cuore della mia propria ma il fatto è che non me ne intendo davvero io di tutte queste cose improvviso sentì il bisogno di affrettarsi a soggiungere in queste cose Alexei Fiodorovic in queste cose ora quel che importa soprattutto sono l'onore e il dovere e qualcosa d'altro che non so definire ma che sta ancora più in alto forse ancora più in alto del semplice dovere è il cuore che mi parla di questo ineluttabile sentimento ed è esso che ineluttabilmente mi trascina dirò tutto del resto in due parole già che la mia decisione è bella e presa anche se egli prendesse in moglie quell'essere là e il tono di lei si fece solenne quell'essere al quale io non potrò mai mai perdonare io nonostante tutto non lo abbandonerò da oggi in poi non lo abbandonerò mai più mai più proruppe come nella lacerazione di un pallido forzato entusiasmo con questo non voglio dire affatto che gli correrò dietro che gli comparirò ogni momento sotto gli occhi che lo tormenterò oh niente affatto me ne andrò in un'altra città dovunque volete ma per tutta la vita per tutta la vita vi girerò su di lui ininterrottamente quando poi con quella diverrà infelice e questa è una cosa che infallibilmente e al più presto si avvererà allora venga pure a me e troverà un amico una sorella una sorella e nient'altro si intende e questo per sempre ma egli si persuaderà alla fine che questa sorella è effettivamente una sorella per lui piena d'amore e disposta a sacrificargli tutta la vita otterrò alla fine insisto su questo che egli riconoscerà chi sono io e si confiderà tutto a me senza vergogna esclamò in una specie d'esaltazione io sarò un dio per lui a cui si rivolgerà nelle sue preghiere è il meno che mi debba per il tradimento che mi ha fatto e per ciò che ho dovuto sopportare per causa sua ieri sera e che veda così finché vive come io per tutta la vita sarò fedele a lui e alla parola che ho data una volta per quanto lui sia stato infedele e mi abbia tradito io sarò io mi convertirò in un semplice mezzo per la sua felicità o come si potrebbe chiamarlo in uno strumento in una macchina per la felicità sua e questo per tutta la vita per tutta la vita in modo che gli stia sotto gli occhi finché vivrà ecco tutta la mia decisione Ivan Fiodorovic mi approva altamente aveva il respiro affannoso con molta più dignità più finezza e più naturalezza essa doveva aver avuto in animo di esprimere il suo pensiero ma le era venuto fatto di parlare troppo affrettatamente e con troppa crudezza molto dipendeva da giovanile incapacità di frenarsi molto risentiva dell'esacerbazione di ieri e di un bisogno di mostrarsi altera come aveva coscienza lei stessa il viso le si era tutto un tratto incupito l'espressione degli occhi le si era fatta cattiva Agiosha se ne avvide subito e in cuore gli si sommosse un senso di pietà ma proprio in quel punto interloquì il fratello Ivan io non ho fatto che esprimere il mio pensiero disse per chiunque altra sarebbe una cosa imposta forzata ma per voi no un'altra sarebbe forte il giusto ma voi siete nel giusto non so che ragioni addurre di questo ma vedo bene che voi siete sincera al più alto grado e quindi siete nel giusto ma ciò vale soltanto per questo minuto ma che cos'è mai questo minuto l'oltraggio patito ieri e niente più ecco che significa questo minuto scattò d'improvviso la signora cioclacova che evidentemente non avrebbe voluto intervenire ma non era stata capace di frenarsi e aveva di colpo manifestato un'idea assai plausibile d'accordo d'accordo la interruppe Ivan con un repentino moto di collera e con una palese contrarietà che avessero osato interrompere lui d'accordo ma per un'altra questo minuto non è niente di più che l'impressione di ieri è niente di più che un minuto mentre con il carattere di Caterina Ivanovna codesto minuto verrà a prolungarsi per tutta la vita ciò che per le altre è una promessa e basta è per lei invece un eterno gravoso magari opprimente ma imprescindibile dovere ed essa si alimenterà del senso di questo dovere compiuto la vostra vita Caterina Ivanovna trascorrerà d'ora innanzi nell'affliggente contemplazione dei vostri propri sentimenti del vostro proprio eroismo e del vostro proprio dolore ma col tempo questo tormento si lenirà e la vostra vita si muterà in una contemplazione ormai dolce dell'incredibile e orgoglioso disegno realizzato una volta per sempre disegno effettivamente orgoglioso disperato senza dubbio ma da voi vinto e sarà questa una consapevolezza che finirà col procurarvi una piena soddisfazione e vi rappacerà con tutto il rimanente aveva detto così addirittura con una specie di rancore in un tono evidentemente intenzionale e forse senza neppure il desiderio di nascondere la sua intenzione ossia di nascondere che parlava apposta e per scherno oh signore mio com'è lontano tutto questo dalla verità proruppe di nuovo la signora Cioclacova Alexei Fjodorovic parlate voi dunque sono tormentata da un bisogno di sapere che cosa mi direte voi esclamò Caterina Ivanovna e di colpo ruppe in lacrime Agliosa salzò su dal divano non è nulla nulla piangendo continuò essa dipende dallo scompiglio da questa nottata ma accanto a due amici come voi e vostro fratello io mi sento ancora forte perché lo so voi tutte e due non mi abbandonerete mai sventuratamente forse domani stesso io debbo recarmi a Mosca e lasciarvi per lungo tempo e questa sventuratamente è una cosa irrevocabile disse d'improvviso Ivan Fjodorovic domani a Mosca si contraste d'un tratto tutto il viso di Caterina Ivanovna ma Dio mio che felice combinazione gridò con voce mutata in un lampo e in un lampo aveva cessato di piangere tanto che non gliene rimaneva la minima traccia in un lampo proprio era avvenuto in lei uno stupefacente mutamento che destò la più gran meraviglia in Aglioscia al posto della povera ragazza oltraggiata che piangeva un momento fa nella tortura dei propri sentimenti era apparsa di punto in bianco una donna nel pieno dominio di se stessa e anzi eccezionalmente soddisfatta di qualche cosa come se tutta un tratto qualche cosa la avessero allegrata oh la felice combinazione non è già che io vi perda si intende bene che non si tratta di questo sembrò riprendersi a questo punto con un grazioso sorriso mondano un amico della vostra specie non può avere un simile pensiero al contrario io sono davvero infelice di restare qui priva di voi e di colpo sarà impetuosamente precipitata su Ivan Piodorovic e afferrandolo per tutte e due le mani ardentemente gliele serrò ma la felice combinazione consiste in questo che voi stesso di persona potrete riferire così a Mosca a Zietta e ad Agascia quale sia la mia situazione tutta l'orrenda situazione in cui mi trovo ora con piena franchezza ad Agascia con riguardo alla cara Zietta nel modo che a voi stesso sembrerà il migliore non potete figurarvi quanto ho sofferto io fra ieri e stamani per non sapere come avrei fatto a scrivere questa terribile lettera già che per lettera cose come queste non c'è proprio modo di comunicarle adesso però mi riuscirà facile scrivere già che voi andrete là da loro in persona e spiegherete tutto oh come sono felice ma è solo di questo che sono felice potete credermi ancora una volta quanto a voi vi assicuro che per me siete insostituibili subito subito corro a scriver la lettera concluse bruscamente e anzi mosse addirittura per uscire dalla stanza e Agascia dunque e il parere di Alexei Fiodrovich che ci tenevate tanto a sentire esclamò la signora Cioclacova un accento d'acrimonia e di stizza vibrava nelle sue parole non me ne sono scordata si soffermò di botto Caterina Ivanovna e perché mai voi mi siete così ostile in un momento simile Caterina Osipovna con amaro coccente rimprovero soggiunse ancora quello che ho detto lo riconfermo io ho bisogno del parere di lui dico di più ho bisogno della decisione di lui come lui dirà così io farò ecco fino a che punto sono bramosa delle vostre parole Alexei Fiodrovich ma che cosa avete io non avrei mai creduto non posso rendermi capace di questo esclamò ad improvviso Alexei in tono doloroso di che cosa egli parte per mosca e voi avete esclamato che ne siete felice per finta voi avete esclamato così e poi subito vi siete affrettata a spiegare che non di questo eravate felice ma che anzi eravate dispiacente che perdevate un amico ma anche questo lo avete recitato per finta come a teatro si recita una commedia a teatro come ma che cosa dite insorse Caterina in valofra in un profondo stupore avvampando tutta e corrugando le sopracciglia ma sì mentre voi gli assicurate che vi dispiace perdere in lui un amico nello stesso momento gli fate figurare che è una fortuna che gli parta disse ancora agli oscia con voce ormai tronca dall'affanno egli si teneva ritto presso il tavolo e non si risedeva che cosa intendete dire non capisco ma sì non lo so neppur io c'è stata in me tutta un tratto come un'illuminazione so che non sta bene che io parli così ma in ogni modo dirò tutto fino in fondo continuava agli oscia sempre con quella sua voce tremante e spezzata la mia illuminazione consiste in questo che mio fratello Dimitri probabilmente voi non lo amate affatto fin dal principio e Dimitri stesso probabilmente non ama affatto voi neanche lui fin dal principio e vi venera soltanto è vero io non so come oso di loro a tutto questo ma è pur necessario che qualcuno la dica la verità dato che qui la verità nessuno vuol dirla quale verità salto su Caterina Ivanovna è una nota isterica risonò nella sua voce ma ecco quale spiccicò le labbra agli oscia come se si slanciasse giù da un tetto chiamate subito Dimitri io so dove trovarlo che venga lui qui e vi prenda per mano quindi prenda per mano il fratello Ivan e congiunga insieme le vostre mani c'è che voi state tormentando Ivan per la sola ragione che lo amate e lo tormentate per la ragione chiamate Dimitri per autotortura lo amate per infingimento perché vi siete data a credere così Agli oscia restò in tronco e tacque voi voi siete un piccolo folle ecco chi siete ormai sbiancata in viso con le labbra increspate dal risentimento lo interruppe a bruciapelo Caterina Ivanovna quando ecco Ivan Fiodorovich scoppiare in una risata e alzarsi su da sedere il cappello gli stava già fra le mani tu ti sei sbagliato mio buon Agli oscia disse egli con un'espressione sul viso quale Agli oscia non gli aveva ancora mai veduta un'espressione come di giovanile schiettezza ed un sentimento vivace irresistibilmente espansivo non è mai accaduto che Caterina Ivanovna mi abbia amato essa ha sempre saputo che io le volevo bene anche se io non le ho mai fatto parola del mio affetto lo ha sempre saputo ma non mi ha mai amato un amico del pari io non sono stato per lei neppure una volta neppure un giorno solo una donna così altera non poteva aver bisogno della mia amicizia mi tratteneva al suo fianco per una perpetua vendetta si vendicava su di me e per mezzo di me di tutti gli oltraggi che senza tregua e ad ogni istante ha dovuto sopportare per tutto questo tempo da parte di Dimitri di tutti gli oltraggi accumulatisi fin dal loro primo incontro già che perfino quel loro primo incontro ne è rimasto in cuore come un oltraggio ecco che cuore è il suo e io per tutto questo tempo non ho fatto che prestare ascolto alle sue proteste d'amore per lui ora parto ma sappiate Caterina Ivanovna che effettivamente voi non amate che lui e più lui vi fa oltraggio più amore voi gli portate qui appunto sta la vostra autotortura lo amate proprio tal quale in quanto vi oltraggia voi lo amate se si correggesse subito voi lo abbandonereste e vi disamorereste di lui egli va indispensabile invece per prospettarvi continuamente l'eroismo della vostra fedeltà e per rinfacciargli l'infedeltà sua e tutto questo per l'orgoglio che avete qui si assiste a un gran sfoggio di umiltà e di umiliazioni ma alla base di tutto c'è l'orgoglio io sono troppo giovane e troppo forte è stato il mio amore per voi so che non dovrei dirvi queste cose e che sarebbe più dignitoso da parte mia allontanarmi da voi senz'altro sarebbe anche per voi meno offensivo ma capite vado lontano e non tornerò mai più capite ma per sempre io non ho voglia di star qui ad assistere alle autotorture del resto non so più cosa dire ho già detto tutto addio Caterina Ivanovna qui non potete stizzirvi con me perché io vengo ad essere punito cento volte più gravemente di voi punito già per il fatto stesso che non vi vedrò mai più addio non mi occorre che mi diate la mano con troppa consapevolezza mi avete tormentato perché io possa di questo momento perdonarvi più tardi perdonerò ma ora darci la mano non occorre ten dank dame beger ich nicht soggiunse con un tortuoso sorriso dimostrando così davvero inaspettatamente che era capace anche lui di leggere Schiller tanto da mandarlo a memoria come Agliosha non avrebbe creduto e uscì dalla stanza senza neppure accomiatarsi dalla padrona di casa la signora Cioclacova Agliosha cozzò una mano contro l'altra Ivan gli gridò appresso come fuori da sé torna indietro Ivan no no è inutile a nessun patto ora tornerebbe indietro esclamò illuminato di nuovo da una dolorosa intuizione ma io io ho la colpa di tutto sono stato io a incominciare Ivan ha parlato con Acrimonia non secondo verità in modo ingiusto e con Acrimonia egli deve venire qui di nuovo tornare tornare ancora prorampeva Agliosha come un mentegatto Caterina Ivalovna andò bruscamente nell'altra stanza voi non avete fatto nulla vi siete comportato magnificamente come un angelo si affrettò a bisbigliare entusiasta la signora Cioclacova al desolato Agliosha io porrò in opera ogni mezzo affinché Ivan Fiodorovic non parta l'esultanza le brillava sul viso con acerbo disappunto da Agliosha ma in quel momento Caterina Ivalovna tornò di qua aveva fra le mani due banconote iridate debbo chiedervi un grande favore Alexei Fiodorovic cominciò essa rivolgendosi senz'altro ad Agliosha in tono tranquillo e indifferente come se un momento prima non fosse proprio accaduto nulla una settimana sì mi par bene una settimana indietro Dmitri Fiodorovic ebbe a compiere così a mente calda un'azione malfatta veramente deplorevole è accaduto in un locale equivoco in un certo caffè lì si imbatté con quell'ufficiale in congedo con quel capitano in seconda di cui vostro padre si serviva per non so quali affari suoi montato in collera non so bene perché contro questo capitano in seconda Dmitri Fiodorovic lo acciuffò per la barba e alla presenza di tutti lo trascinò in questo modo miseramente fin sulla strada e per la strada seguitò a trascinarlo ancora un buon tratto e dicono che il figlioletto di questo capitano che studia nelle nostre scuole ancora bambino a vedere quello spettacolo veniva dietro di corsa e continuava a piangere e chiedeva aiuto per il padre e si rivolgeva a tutti supplicando che lo difendessero e invece tutti ridevano perdonate Alexei Fiodorovic io non posso ricordare senza disgusto questa sua azione abbominevole una di quelle azioni a cui può ridursi soltanto Dmitri Fiodorovic nei suoi impeti d'ira e nello scatenamento delle sue passioni non posso neppur parlarne non sono in grado le parole mi mancano ho assunto informazioni su quel povero uomo e ho saputo che si trova in grandi strettezze si chiama Znigirev non so quale mancanza abbia commesso quando era in servizio fatto sta che fu espulso io non so riferirvi con esattezza e ora lui e la famiglia disgraziata famiglia i bambini malati la moglie demente sono caduti nella più nera miseria da molto tempo ormai si è stabilito qui in città qualche cosetta si insegna a fare era scrivano non so dove è tutto a un tratto adesso non gli danno più un soldo io ho posato l'occhio su di voi ho pensato cioè non so che dico continuo a improgliarmi volevo vedete pregar voi Alexei Fiodorovic voi che siete tanto buono di recarvi da costui e con qualche pretesto andargli in casa intendo in casa di questo capitano oddio che confusione sto facendo e con delicatezza con cautela proprio come voi solo sapete fare agli osce a questo punto a Rossi trovare il modo di offrirgli questo aiuto ecco questi duecento rubli egli probabilmente li accetterà cioè bisognerà persuaderlo ad accettarli oppure no come dite di fare vedete non deve sembrare che lo si paghi per tacitarlo perché non sporga denuncia da che pare che avesse intenzione di denunciare la cosa si deve sentire esclusivamente della simpatia un desiderio d'aiuto da parte mia da parte della fidanzata di Dimitri Fiodorovic e non già da lui direttamente insomma voi troverete il modo ci sarei andata io stessa ma vi saprete sbrigare assai meglio di me abita in via del laghetto in casa della Meshtanka Kalmikova per amor di dio Alexei Fiodorovic tatemi questo favore e ora ora io sono un po' stanca arrivederci con tanta rapidità d'improvviso si era rigirata di là e di nuovo era scomparsa dietro la tenda che Agiosha non riuscì neanche ad aprire bocca e invece avrebbe voluto parlare avrebbe voluto chiedere perdono accusare se stesso insomma dir qualche cosa perché il suo cuore era pieno e uscirsene di qui senza una parola contrariava la sua volontà più intima la signora Cioclacova lo afferrò per la mano e pensò lei a portarlo fuori poi in anticamera lo fece soffermare come già poc'anzi è piena d'orgoglio lotta con se stessa ma è buona adorabile ma n'anima esclamò in un sussurro la signora Cioclacova oh che bene le voglio io specie in certi momenti e come sono di nuovo contenta adesso di tutto di tutto caro Alexei Fiodorovic voi non lo sapevate ne vero dovete sapere dunque che noi tutte tutte io le sue due ziette tutte insomma perfino l'ise già da più di un mese non facciano altro che desiderare e pregare che lei la tronchi col vostro prediletto a Dimitri Fiodorovic il quale non vuole apprezzarla e non ha per lei un filo d'affetto e si fidanzi invece con Ivan Fiodorovic che è un giovane così fine ed eccellente e le vuole bene sopra ogni cosa al mondo noi abbiamo ne vero mortito addirittura una specie di congiura e anzi se io non mi risolvo ancora a partire forse proprio per questo motivo ma essa piangeva pur sempre come di nuovo ferita esclamò Agliosha non credete alle lacrime di una donna Alexei Fiodorovic io sono sempre contro le donne in questi casi io sto per gli uomini mamma voi lo guastereste e lo manderete in perdizione risonò la cucina di Lise dietro alla porta no sono stata io la causa di tutto è una gran colpa la mia ripeteva disperato Agliosha sopraffatto da una lacerante vergogna del proprio scatto portandosi perfino le mani sul viso dalla vergogna al contrario vi siete comportato come un angelo come un angelo mille volte io sarei pronta a ripetervelo mamma perché sei comportato come un angelo le sonò un'altra volta la voce di Lise io ho avuto a un tratto non so come l'impressione da tutto quello che mi si svolgeva sotto gli occhi continuò Agliosha come se non avesse neppure udito Lise che essa amasse Ivan e così ho detto quella sciocchezza e ora chissà a chi accadrà ma di che si tratta di che si tratta però ruppe Lise mamma mi sembra che voi vogliate farmi morire io vi interrogo e voi non mi rispondete in quel punto entrò di corsa la cameriera Caterina Ivanovna si sente male piange la signorina ha un attacco di nervi le convulsioni ma che c'è dunque gridò Lise con voce ormai sconvolta mamma così verrà a me l'attacco di nervi altro che a lei Lise per amor di dio non gridare non mi uccidere così tu sei ancora in un'età che non puoi sapere tutto quello che sanno i grandi mi spricherò tornare qui e ti dirò tutto quanto è possibile farti conoscere oh mio dio io scappo scappo una crisi isterica buon segno questo Alexei Fiodorovic la va ottimamente se è stata colta da una crisi isterica è proprio quel che ci vuole io in questi casi sono sempre contro le donne contro tutte queste crisi isteriche e lacrime donnesche Giulia corri a dire che io sono di là di volo che se poi Ivan Fiodorovic se n'è andato così è lei che ne ha la colpa ma egli non partirà Lise per amor di dio non gridare ah già non sei tu a gridare sono io che grido scusa la tua mammina ma io sono invisibilio 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 voi non avete notato Alexei Fiodorovic che aspetto giovane giovanissimo aveva Ivan Fiodorovic quando poc'anzi se n'è andato ha parlato a quel modo e se n'è andato io lo stimavo così libresco così accademico e invece d'improvviso tanto calore tanta franchezza e gioventù e in tutto questo tanta bellezza tanta bellezza come in voi e anche quel verso tedesco eh l'ha pronunciato proprio come voi ma io scappo scappo Alexei Fiodorovic fate presto a sbrigarvi di quella commissione e svelto a tornare Lise tu hai bisogno di nulla per amore di dio non trattenere neppure un istante Alexei Fiodorovic sarà subito di ritorno qui da te la signora Cioclacova finalmente scappò via Aglioscia prima di andarsene fece per aprire la porta verso la camera di Lise niente affatto esclamò Lise niente affatto adesso parlate attraverso la porta per qual ragione voi mi siete diventato un angelo è questo soltanto che voglio sapere per una sciocchezza terribile Lise arrivederci non arrischiatevi ad andare via così provò a scattare Lise Lise io ho un serio dolore sarò subito di ritorno ma ho dentro un grande grande dolore e scivolo via dalla stanza tortura nella Stamberga gli stava dentro davvero un serio dolore come raramente finora gli era accaduto di provarne era scattato e aveva detto una sciocchezza e in quale sfera nelle cose d'amore ma che cosa ne capisco io che cosa posso intendere di cose simili per la centesima volta si ripeteva fra sé arrossendo oh la vergogna non sarebbe nulla la vergogna è semplicemente il castigo che mi merito il peggio è che infallibilmente adesso io sarò causa di nuovi dolori e pensare che lo Starec mi ha mandato a rappacciare e a ricongiungere questo è il bel modo di ricongiungere qui d'improvviso gli sovvenne come aveva ricongiunto le mani è una vergogna tremenda lo invase di nuovo anche se tutto questo io l'ho fatto in un impulso sincero d'ora innanzi bisogna però essere più avveduti conclusi a un tratto e non sorrise neppure alla sua conclusione secondo l'incarico di Caterina Ivanovna doveva recarsi alla via del lago e il fratello Dmitri abitava lungo la strada che doveva fare in un vicolo che dalla via del lago non distava molto Alioscia decise di passare da lui in ogni modo prima di andare dal capitano sebbene presentisse che non avrebbe trovato il fratello in casa sospettava che questi chissà avrebbe cercato di restargli nascosto in questi momenti ma costasse quel che costasse bisognava cercarlo e intanto il tempo scorreva e non c'era minuto non c'era secondo che il pensiero dello Starec morente lo lasciasse da quando era uscito dal monastero dall'incarico di Caterina Ivanovna gli era attrapelato un particolare che gli aveva destato d'altronde un eccezionale interesse quando Caterina Ivanovna gli aveva accennato a quel ragazzotto di scuola figlio del capitano che correva piangendo forte dietro al padre era subito balenata ad Agiosha l'idea che questo ragazzetto fosse quello scolaro di poc'anzi che gli aveva morso il dito mentre lui Agiosha gli stava chiedendo che torto gli avesse mai fatto ora poi Agiosha ne sentiva quasi la certezza pur senza sapere ancora perché e così distratto da queste riflessioni accessorie si divagò un pochino e decise fra sé di non pensare al guaio che aveva combinato appena e di non tormentarsi col rimorso ma di fare senz'altro ciò che aveva da fare e poi avvenisse quel che avvenisse questo pensiero finì col ridargli brio oltre che voltando nel vicolo dove era la casa del fratello Dimitri e sentendo fame si cavò di tasca la pagnottella che aveva presa dal padre e la mangiò strada facendo e questo rinvigorì le sue energie Dimitri in casa non c'era i padroni della casupola un vecchio falegname suo figlio e la vecchia moglie sbirciarono Agiosha perfino con sospetto hanno già tre giorni che non viene qui a dormire chissà che non sia andato anche forestiero rispose il vecchio alle incalzanti domande di Agiosha Agiosha capì che l'uomo non gli diceva nulla per ottemperanza e istruzioni ricevute alla domanda se non si trovasse da Grushenka o non stesse acquattato in casa di Foma Agiosha mise fuori apposta queste confidenze i padroni di Dimitri gli dettero tutti un'occhiata addirittura impaurita gli vogliono bene e quindi gli tengono mano pensò Agiosha questa è una buona cosa alla fine si mise a cercare per via del lago la casa della Mescianka Kalmikova una casupola decrepita ingobbita con tre finestre in tutto da strada e con un cortile fangoso in mezzo al quale sulla soletta se ne stava una vacca dal cortile si entrava in un andito sulla sinistra del quale rispondeva l'abitazione della vecchia padrona e della figlia anch'essa vecchiotta e sorde entrambe a quanto pareva ad Agiosha che reiteratamente domandava del capitano una delle due intendendo finalmente che chiedevano degli inquilini tese il dito di là dall'andito indicando la porta di un'isba da abitazione l'appartamento del capitano era infatti come apparve una semplice isba Agiosha aveva già preso in mano il battente di ferro per aprire la porta quando a un tratto l'eccezionale silenzio dell'interno lo colpì eppure da quanto gli aveva detto Caterina Ivanovna sapeva che il capitano a riposo aveva tanto di famiglia o stanno tutti a dormire o forse han sentito che venivo io e aspettano il momento che io apra sarà meglio che prima bussi e si fece a bussare la risposta venne ma non subito forse anche con dieci secondi di ritardo chi è gridò qualcuno con voce sonora e volutamente irritata allora Agiosha aprì la porta e varcò la soglia si trovò in un'isba abbastanza ampia ma incredibilmente ingombra di gente ed ogni specie di masserizie domestiche a sinistra c'era una grande stufa russa dalla stufa alla finestra di sinistra era tesa attraverso tutta la stanza una funicella da cui penzolava uno sciorino di stracci lungo le due pareti a sinistra e a destra stavano piazzati i letti rivestiti di coperte a maglia su quello a sinistra si ammontava una piramide di quattro guanciali foderati di indiana uno più piccolo dell'altro sull'altro a destra invece non si vedeva che un guancialetto di dimensioni minuscole più oltre d'angolo sarà un piccolo spazio delimitato da una tenda o lenzuolo accavalciato a una funicella tirata di traverso il cantone e anche di dietro a questa tenda si intravedeva di sbieco un letto adattato sopra una panca e una sedia accostate un rozzo contadinesco tavolo di legno quadrato veniva a sporgere da quel cantone fin verso la finestra di mezzo tutte e tre le finestre di quattro piccoli vetri ciascuna inverditi e ammuffiti erano opache e tappate strette in modo che nella stanza l'aria era abbastanza soffocante e la luce era poca sul tavolo c'era una padella con avanzi d'uova a occhio di bue una fetta di pane smanciucchiata e una bottiglia da mezzo litro con scarsi resti di felicità terrena proprio sul fondo alla proda del letto di sinistra su una sedia sedeva una donna che sembrava una signora vestita in un abito di indiana era assai magra in viso gialla e le sue guance straordinariamente cascanti testimoniavano di primo acchito che si trattava di una malata ma soprattutto agli oscia fu colpito dallo sguardo della povera signora uno sguardo singolarmente interrogativo insieme terribilmente altero e finché lei stessa non ebbe cominciato a parlare e agli oscia non si fu spiegato col padron di casa la signora continuò a girare sempre con quell'aria altera interrogativa i grandi occhi castani da uno all'altro dei due che conversavano a fianco a fianco di cotesta signora presso la finestra di sinistra si teneva ritta una ragazza assai giovane piuttosto bruttina in viso con certi capelli rossigni e radi poveramente vestita seppure con molta proprietà essa avvolse d'un'occhiata disgustata il sopravvenuto sulla destra pure sulla proda del letto sedeva ancora un altro essere femminile era un'assai pietosa creatura una ragazza giovanissima anche questa sui vent'anni ma gobba e impotente a camminare con le gambe paralizzate come poi dissero ad agli oscia le grucce le stavano da presso in un angolo fra il letto e la parete singolari di bellezza e di bontà gli occhi della povera fanciulla si posarono con una certa quieta dolcezza su agli oscia al tavolo sul punto di finir l'uova fritte sedeva un signore sui 45 anni di mezzana statura segaligno di complessione debole di capelli rossigni rossigna era dalla barba che rassomigliava moltissimo a un orruffato strofinaccio di stoppa il paragone e la parola stessa strofinaccio di stoppa balenarono di primo acchito per qualche ragione alla mente di agli oscia come ebbe a ricordarsi in seguito evidentemente era stato questo signore a gridare dall'interno chi è dato che altri uomini nella stanza non ce n'erano ma quando agli oscia fu entrato l'altro sembrò strapparsi dal panchetto su cui sedeva a tavola e afferrandosi a pulirsi con la salvietta lacera si precipitò verso agli oscia un frate che questua per il convento ha proprio indovinato il posto adatto a voce alta diceva intanto la giovinetta ritta nell'angolo a sinistra ma il signore che era accorso presso agli oscia istantemente si rigirò a lei sui talloni e con voce agitata e come spezzata le ribatte no signori Barbara Nicolaievna non si tratta di questo non ci ha indovinato permettete che io vi domandi a mia volta per servirvi bruscamente si volse di nuovo ad agli oscia che cosa vi ha mosso signor mio a visitare questi penetrali agli oscia lo guardava attentamente era la prima volta che vedeva quest'uomo sarà in costui un che di angoloso di frettoloso e di irritato benché evidentemente avesse bevuto di fresco non era però ubriaco il suo viso esprimeva non so quale estrema sfrontatezza e insieme strano a vedersi una palese viltà rassomigliava a un uomo che per un lungo tempo si sia assoggettato e abbia pazientato e che poi ad un tratto si è balzato su e voglia farsi sentire o meglio ancora rassomigliava a un uomo che avrebbe una voglia tremenda di picchiarvi ma una tremenda paura che siate voi a picchiar lui in quel che diceva e nelle intonazioni della sua voce piuttosto acuta si sentiva una vena di stravagante umorismo ora virulento ora timido che non riusciva a tenerla nota e veniva a spezzarsi quella domanda circa i penetrali aveva fatto tutto tremante sporgendo in fuori gli occhi e appressandosi ad agli oscia così a bruciapelo che quest'ultimo macchinalmente aveva fatto un passo indietro aveva indosso un cappotto scuro assai malandato di una specie di nanchino pieno di rattoppi e di frittelle i suoi calzoni erano ad un colore straordinariamente chiaro come nessuno li porta più da un pezzo ha piccoli scacchi ed un tessuto molto sottile con sunti in basso e quindi raccorciati da sembrar che ci fosse cresciuto dentro come un ragazzetto io sono Alexei Karamazov cominciò agli oscia di rimando intendo signore intendo perfettamente tagliò corto il signore dando a sentire che già sapeva di chi si trattasse e io signore sono il capitano Snegirev per servirvi ma rimango col desiderio di sapere che cosa precisamente vi abbia spinto no non sono venuto così vorrei in realtà dirvi una parola se permettete in tal caso ecco la sedia per servirvi degnatevi accomodatevi signore così dicevano nelle vecchie commedie degnatevi accomodarvi e il capitano con rapido gesto afferrò una sedia libera una sedia da contadini tutta di legno e senza alcuna imbottitura e la piantò quasi nel mezzo della stanza quindi resa per sé un'altra sedia uguale si sedette di rimpetto dagli oscia a bruciapelo come al solito tanto che i loro ginocchi quasi si toccavano Nicolai Illich Snegirev per servirvi ex capitano in seconda della fanteria russa caduto in infamia per le sue mancanze ma pur sempre capitano in seconda sarebbe più proprio dire capitano in seconda per servirvi piuttosto che Snegirev dato che nella seconda metà della mia vita ho cominciato a parlare a base di per servirvi è un intercalare per servirvi a cui ci si avvezza nell'umiliazione è proprio così sorrisa Iosha ma ci si fa il vezzo spontaneamente o per calcolo spontaneamente com'è vero il Dio non lo avevo mai usato in tutta la mia vita non avevo mai detto per servirvi improvviso sono caduto e ho cominciato a usare per diritto e per traverso è un fenomeno che avviene per forza maggiore mi accorgo che vi interessate dei problemi del nostro tempo ma in che modo ho potuto destare in voi tanta curiosità tanto che abito in un ambiente così impossibile per ricevere visite sono venuto appunto per quella faccenda appunto per quella faccenda impaziente incalzò il capitano per quella faccenda del vostro incontro con mio fratello Dimitri Fiodorovic impacciato tagliocorto agli oscia di quale incontro si tratta per servirvi forse forse per l'appunto di quello voglio dire di quello dello strofinaccio di stoppa dello strofinaccio da bagno e a questo punto sarà sporto così in avanti che stavolta urtò davvero coi ginocchi in quegli di agli oscia le labbra serrate in una piega particolare gli si erano assottigliate come un filo che cos'è questo strofinaccio mormorò agli oscia è venuto qua per causa mia papà a lamentarsi con te gridò una voccetta che agli oscia riconobbe del ragazzo incontrato da poco là di dietro alla tenda d'angolo io poco fa gli ho dato un morso a un dito la tenda si era aperta agli oscia vide il suo nemico di poc'anzi nell'angolo sotto le immagini su quel lettuccio allestito su una panca e una sedia il ragazzo stava coricato là coperto dal suo paltoncino e in più da un logro col troncello era evidente che non si sentiva bene e a giudicare dall'ustrore degli occhi aveva la febbre senza paura diversamente da quei momenti egli guardava ora ad agli oscia sto in casa mia amico ora non mi acchiappi più ma di che dito morso vai parlando subbalzò dalla sedia il capitano a voi signore ha morso un dito si a me poco fa per strada facevano assassate fra ragazzi gli altri erano in sei a tirargli e lui era solo io ho fatto per avvicinarlo e lui mi ha lanciato un sasso addosso poi un altro alla testa gli ho domandato che cosa t'ho fatto lui di colpo mi si è avventato e mi ha morso malamente a un dito senza che io sappia il perché ora ci penso io a picchiarlo subito subito lo picchio e il capitano si decise a balzar su del tutto dalla sedia ma io non ho davvero intenzione sapete di far delle rimostranze ho fatto giusto per raccontare non voglio affatto che lo picchiate tanto più che ora mi sembra non si sente neppure bene e voi credevate che io l'avrei picchiato che io pigliasci gli uschenka mio e giù a picchiarlo sotto i vostri occhi per dare a voi completa soddisfazione ne avete bisogno urgente signore esclamò il capitano bruscamente voltandosi ad agli oscia in un atto da sembrar che volesse scagliarsi su lui sono dolente signore egregio del vostro illustre dito ma se voi volete piuttosto che picchiare gli uschenka ecco qua quattro dita delle mie sotto i vostri occhi per darvi una giusta soddisfazione sono pronto a tagliarmene con questo coltello quattro dita per servirvi crederei che dovrebbero essere sufficienti a placare la vostra sete di vendetta non ne esigerete un quinto di colpo aveva smesso di parlare e sembrava che soffocasse ogni minimo lineamento del suo viso si muoveva e si contraeva mentre il suo sguardo traboccava di sfida una specie di esaltazione lo aveva invaso io credo di aver capito tutto ora pacato e triste rispondeva agli oscia che rimaneva a sedere vuol dire che il vostro ragazzo è un buon ragazzo vuole bene al padre e si è scagliato su me perché sono il fratello di quello che va offeso ora comprendo bene ripete pensoso ma mio fratello Dmitri Fiodorovic si è pentito della sua azione io lo so e se gli fosse possibile venire a casa vostra o meglio di tutto rivedersi con voi in quello stesso locale egli vi chiederebbe pubblicamente perdono posto che voi lo desideriate sicché prima avrebbe strappato la mia povera barba e poi mi avrebbe chiesto perdono tutto liquidato e tutti soddisfatti così la penserebbe lui o no tutt'altro egli è pronto a fare tutto ciò che vorrete e nel modo che voi vorrete di modo che se io chiedessi a sua eccellenza di mettersi in ginocchio dinnanzi a me in quello stesso caffè la capitale lo chiamano oppure in mezzo alla piazza lui dunque ci si metterebbe sì si metterà in ginocchio ma avete passato il cuore mi avete smosso le lacrime e mi avete passato il cuore sono intimamente disposto a sentire la magnanimità di vostro fratello permettete ora che termini le nostre presentazioni la mia famiglia le mie due figliuole e mio figlio la mia covata per servirvi se muoio io chi altro ci sarà a voler bene a loro e finché vivo io o mi ciattolo che altro non sono se si eccettuino loro chi altro può voler bene a me è una gran provvidenza signor mio questa che dio ha stabilito per ogni uomo della mia specie già che è necessario che anche a un uomo della mia specie qualcuno voglia pur bene questo è profondamente vero esclamò agli oscia ma basta una buona volta con le pagliacciate viene un imbecille qualunque e subito voi ci svergognate proruppe improvvisamente la giovinetta dalla finestra rivolgendosi al padre con una grinta disgustata e sprezzante aspettate un pochino parvare a Nicolaievna lasciatemi procedere nel mio ragionamento le ribatte il padre in tono imperioso mentre però assai benevola era l'occhiata che le allungava che volete signor mio è questo il caratterino nostro si rivolse di nuovo ad agli oscia nulla in natura non voleva ci benedir ossia bisognerebbe dire al femminile non voleva essa benedir ma permettete che vi presenti anche mia moglie ecco per servirvi a Rina Petrovna signora impotente a camminare di anni 43 i piedi le si muovono ma ben poco creatura semplice per servirvi a Rina Petrovna spianate i vostri lineamenti se qui Alexei Piodorovic Karamazov alzatevi Alexei Piodorovic ed egli lo aveva preso per una mano e con una forza che non ci si sarebbe aspettati da lui lo fece rizzare voi state presentandovi a una signora bisogna che vi alziate signor mio non è mica quel Karamazov mammetta il quale ah eccetera eccetera ma il fratello di lui che rifulge per miti virtù permettete Rina Petrovna permettete mammetta permettete che prima vi baci la mano e pieno di differenza e perfino di tenerezza baciò alla moglie la mano la ragazza alla finestra contrariata si voltò di spalle alla scena mentre l'altero e interrogativo viso della moglie esprimeva ad un tratto un'insolita affabilità felicissima accomodatevi signor Cernomazov esclamò essa Karamazov mammetta Karamazov siamo un po' sempliciotte sussurrò di nuovo il capitano beh Karamazov o come altro si chiama tanto per me sarà sempre Cernomazov accomodatevi dunque anzi perché vi ha fatto alzare una signora impotente a camminare vi ha detto le gambe si muoverebbero ma mi si sono gonfiate come due otri mentre nella persona mi sono tutta prosciugata un tempo era piuttosto grossa ma ora ecco qua è come se avessi inghiottito gli aghi siamo un po' sempliciotte signor mio siamo un po' sempliciotte suggerì ancora una volta il capitano papà papà esclamò a questo punto la giovinetta gobba che fin qui aveva sempre taciuto là sulla sua sedia ed improvviso si coprì gli occhi col fazzoletto pulcinella scattò la giovane alla finestra vedete un po' da noi altri che vento tira allargò le braccia la madre accennando alle figlie è come quando le nuvole corrono passano le nuvole e da noi ricomincia la solita musica un tempo quando eravamo nella vita militare a casa nostra ne venivano tanti degli ospiti come voi non è mica che io figlio mio voglia far confronti non è il caso di guardare tanto per il sottile la moglie del diacono una volta viene e mi dice Aleksandr Aleksandrovich è un'anima superiore ma Anastasia Petrovna mi fa è un tizone d'inferno beh le rispondo quanto a questo i gusti sono gusti ma certo che tu sei un soldo di cacio e di quello che puzza e tu mi risponde hai bisogno ad essere tenuta in soggezione a brutto arnese le faccio io e a chi sei venuta a far lezione tu io dice mi porto dietro l'aria pura ma tu l'aria guasta e allora le ribatto interroga tutti i signori ufficiali se guasta l'aria mia o quella di qualcun'altra e così da quella volta questa casa mi si è messa nella mente in una maniera che giusto in questi giorni ecco stavo qui seduta come adesso e vedo entrare proprio quel generale che veniva qui per Pasqua sentite gli dico eccellenza sarebbe possibile a una nobil signora far entrare un po' d'aria libera sì mi risponde bisognerebbe che in casa vostra si aprisse uno sportellino o una porta perché infatti qui da voi l'aria è tutt'altro che ossigenata insomma tutti la stessa cosa ma perché ce l'hanno tanto con l'aria mia i morti puzzano anche peggio di così io dico l'aria vostra non voglio guastarla mi farò fare un paio di stivaletti e me ne andrò lontano cari tesorunci miei non rimproverate la mamma vostra Nicolai Illiz amico mio forse a te son venuta a noia ma sai io c'ho gli uscenca che torna da scuola e mi vuol tanto bene gli ari mi ha portato una mela scusate cari scusate tesrucci la mammina vostra scusatemi che sono abbandonata da tutti ma perché dico io la mia aria ve venuta a schifo e la povera mente catta ad improvviso scoppiò in singhiozzi le lacrime le sprizzavano a fiotti il capitano si precipitò accanto a lei ma ammetta ma ammetta tesoro basta basta non è vero che sei abbandonata da tutti tutti invece ti vogliono bene tutti ti adorano e di nuovo cominciò a baciarle tutte e due le mani e a carezzarla teneramente con le palme sul viso poi dato di piglio alla salvietta bruscamente si mise a tergere dal viso le lacrime anzi ad agli oscia sembrò che lui stesso avesse i lucciconi ebbene avete veduto avete sentito e in una specie di subitaneo furore il capitano si rigirò a lui accennandogli con la mano alla povera demente vedo e sento mormorò la gli oscia fra le labbra papà papà ma forse tu e lui lascialo perdere papà gridò di improvviso il ragazzo sollevandosi a mezzo sul suo lettuccio e fissava lo sguardo bruciante sul padre ma via basta una buona volta di fare il pagliaccio e di esibirvi nei vostri contorcimenti con cui non concludete mai nulla sopraffatto ormai dalla stizza gridò sempre da quel suo angolo Varvara Nikolaevna e anzi col piede pestò sul piancito avete perfettamente ragione stavolta a perdere le staffe Varvara Nikolaevna e io mi precipito a soddisfarvi su via mettete il cappello Alexei Fyodorovic e intanto io piglio il berretto e se ne andiamo ho bisogno di dirvi quel cosinella di serio ma fuori da queste pareti la giovinetta che sta là seduta è un'altra figlia mia per servirvi Nina Nikolaevna me l'ho dimenticato di presentarvela angelo di dio incarnato volato giù fra i mortali non so se voi possiate averne un concetto guardalo lì si scrolla tutto come se avesse le convulsioni continuò indignata Varvara Nikolaevna e questa ecco che adesso mi pesta contro col piede e mi ha dato un momento fa del pagliaccio questa pure per servirvi è un angelo di dio incarnato e ha ragione mi ha affibbiato quel titolo andiamo Alexei Fyodorovic bisogna che regoliamo i nostri affari per servirvi e afferrato agli oscia per la mano lo condusse fuori della stanza direttamente in strada e infine all'aria pura aria pura signor mio invece nel mio maniero è proprio tutt'altro che ossigenato e questo in tutti i sensi avviamoci signore passo passo sarai proprio felice di destare il vostro interesse anch'io ho da parlarvi di una cosa molto importante rilevò agli oscia e non so solamente come cominciare io lo sapevo già che avevate qualche cosa da dirmi se non ci fosse stato qualche cosa non vi sareste mai affacciato a casa mia o che forse sareste venuto davvero a lamentarvi da ragazzo è assai poco verosimile ma a proposito quel ragazzo io là non vi ho potuto spiegare tutto per filo e per segno ma qui adesso quella scena ve la voglio descrivere per servirvi vedete lo strofinaccio era più folto di così ancora una settimana fa parlo della mia barbetta dovete sapere che alla mia barbetta hanno appiccicato il nomignolo di strofinaccio gli scolari principalmente orbene ecco signor mio che un bel giorno vostro fratello Dmitri Fiodorovic mi acciuffa per questa mia barbetta a causa non nulla era in vena di far fracasso e io dovetti subire e così mi trascinò fuori del caffè fino in piazza ed ecco che proprio in quel momento gli scolari uscivano dalla scuola e fra loro sarà anche gli uscia come mi vide in quello stato signor mio si slanciò verso di me papà gridava papà mi si aggrappa addosso mi abbraccia cerca di liberarmi e grida al mio oltraggiatore lasciatelo lasciatelo questo è papà mio è papà perdonategli proprio così sapete gridava perdonategli e finì che con le sue manine lo afferrò e sopra alla mano proprio sopra a quella mano lo baciava rammento ancora che visetto aveva in quei momenti non me ne sono scordato signore e mai me ne scorderò vi giuro proluppe agli oscia mio fratello penserà di mostrarvi nel modo più sincero più pieno il suo rimorso si trattasse magari di inginocchiarsi su quella stessa piazza sarò io a farglielo fare altrimenti non mi sarebbe più fratello sì che la cosa è ancora allo stato di progetto non proviene da lui direttamente ma soltanto signor mio dalla nobiltà del vostro cuore infiammabile potevate dirmelo prima no in questo caso permettete che anche l'altissima cavalleresca nobiltà degna dell'ufficiale di vostro fratello non resti fuori del mio racconto dato che egli in quell'occasione ne diede prova appena ebbe finito di strascicarmi per l'ostrofinaccio e mi ebbe rimesso in libertà tu mi fa sei un ufficiale e un ufficiale sono io se ti riesce di trovare un padrino che sia un uomo come si deve mandamelo pure ti darò ogni soddisfazione men che tu sia un farabutto ecco cosa mi disse per servirvi animo veramente da cavaliere ci allontanammo di là io e il mio gliuscia e quel quadro genealogico della nostra famiglia restò impresso nell'anima di gliuscia per sempre no come vorreste signor mio che noi si rimanesse fra i nobili eppure giudicatene voi stesso che vi siete degnato di visitare il mio maniero che cosa avete veduto tre dame siedono là signor mio una senza gambe mentecatta un'altra senza gambe con la gobba la terza con le gambe intelligente fin troppo studentessa di università per servirvi ma smania di tornarsene a pietroburgo a indagare là in riva alla neva i diritti della donna russa di gliuscia non parlo nemmeno non vanno in tutto signor mio solo come il mignolo già che poniamo che io morissi che ne sarebbe di tutti quei penetrali questo questo solo vi domando e se così stanno le cose allora domani che io lo sfidassi a duello e né tanto né quanto lui mi ammazzasse che cosa succederebbe quelli lì quanti sono che fine farebbero allora peggio ancora che se non mi ammazzasse e se non facesse che storpiarmi lavorare non potrei più ma la bocca mi rimarrebbe pur sempre e chi la sazierebbe allora la bocca mia e tutti loro chi li sazierebbe bisognerebbe bandare gli uscia invece che a scuola a chiederle le mosina giorno per giorno ecco che cosa significa per me signor mio sfidarlo a duello è una stupida parola e niente più egli vi chiederà perdono e in mezzo alla piazza si prostrerà i vostri piedi proruppe di nuovo agli oscia con gli occhi che gli facevano fiamme volevo denunciarlo all'autorità giudiziaria continuò il capitano ma sfogliate il nostro codice che gran riparazione mi si concederebbe per l'oltraggio che ho avuto da parte del mio oltraggiatore ed ecco che d'improvviso Agrafena Aleksandrovna mi manda a dire e mi grida non a rischiarti neppure a pensarci se tu lo denuncerai io farò in modo che si venga a scoprire pubblicamente che lui ti ha battuto a causa dei tuoi stessi imbrogli e così sarà il primo tuo a dover rispondere all'autorità giudiziaria eppure Dio solo sa da chi questi imbrogli sono provenuti e per ordine di chi come una piccola pedina io agito nella faccenda non è stata lei forse a dare le disposizioni di tutto lei è Fiodor Paolovic e per di più aggiunse ancora ti caccerò via per sempre e con me non potrai d'ora innanzi guadagnare più un soldo parlerò pure col mio mercante così lo chiama lei quel vecchio il mio mercante in modo che anche lui ti scacci via e allora io cominciai a pensare se anche il mercante mi scaccia che cosa succede con chi mi metto a lavorare cosa volete loro due soli mi sono rimasti e che il babbo vostro Fiodor Paolovic non solo ha cessato di affidarmi ogni incarico per una ragione che non vale la pena di riferire ma anzi dopo essersi assicurate le mie ricevute è il primo lui a volermi trascinare in tribunale in conseguenza di che signor mio io ho chinato la testa e voi avete potuto vedere i miei penetrali ma ora permettete una domanda ma la mente proprio vi ha morso il dito il mio gliuscia il castello alla sua presenza io non mi sono risolto a entrare in questo dettaglio sì è stato molto doloroso e molto esasperato era il bambino su me si è vendicato di voi perché sono un Karamazov la cosa mi è chiara adesso ma se aveste veduto come faceva sassati coi compagni di sbola è molto pericoloso questo quelli possono ucciderlo sono ragazzi non riflettono un sasso vola e può fracassargli la testa e infatti gli è toccata non proprio la testa ma nel petto appena sopra il cuore una sassata stamattina un livido grosso tanto per servirvi è arrivato a casa piangendo si lamentava ed ecco che ora si è ammalato ma sapete è il primo lui l'acqua e compagni a scagliarsi contro tutti sei inciprignito con tutti ormai dicevano che a un altro ragazzo Krasotkin poco prima aveva ficcato il temperino in un fianco ho sentito anche questo fatto è pericoloso certo Krasotkin è un funzionario di qui e chissà che non ne nascano signor mio delle complicazioni io vi consiglierei con calore continuò Gioscia che per un po' di tempo non lo mandaste affatto a scuola finché non si sarà calmato e questo furore non gli passerà furore signor mio ribadì il capitano precisamente furore un essere così piccino e un furore tanto grande voi non sapete bene ancora tutto permettetemi di illustrarvi a fondo questo punto il fatto è che dopo l'accaduta di quel giorno tutti i ragazzi a scuola cominciarono a sbeffeggiarlo con quel nomignolo di strofinaccio i ragazzi di scuola sono una razza spietata presi uno ad uno sono angeli di paradiso ma messi insieme specialmente in scuola per solito non conoscono pietà cominciarono dunque a sbeffeggiarlo e in igliuscia si destò una nobile reazione un ragazzo qualunque un figlio poco affezionato avrebbe ceduto si sarebbe vergognato di suo padre ma questo da solo si levò contro tutti a difendere il padre il padre è la verità signor sì la giustizia già che quel che ebbe a soffrire mentre baciava a vostro fratello la mano e lo supplicava perdonate a papino mio perdonate a papino mio questo siamo soli a saperlo il signore e io ed è proprio così che i figlioletti nostri non già i vostri ma i nostri per servirvi i figliuoli dei poveri signor mio dispregiati ma d'alto sentire vengono a conoscere già in età di nove anni la verità sulla terra i ricchi non potrebbero mai quelli in tutta la vita non avranno mai modo di sondare un abisso simile ma il mio piccolo gliusca in quell'attimo in quella piazza mentre baciava le mani a quell'uomo in quell'attimo stesso signor mio penetrò tutta quanta la verità gli entrò nell'intimo questa verità e gli si infisse dentro per sempre con veemenza e di nuovo in una specie di frenesia esclamò il capitano e nel dir così si picchiò col pugno destro nel palmo della sinistra come se volesse raffigurare dal vivo in che modo sarà infissa e negliusca suo la verità quel giorno stesso me lo colse una febbre che tutta notte delirò per tutta la giornata con me parlo poco anzi stava sempre in silenzio ma accorsi soltanto che mi sbirciava mi sbirciava dal suo cantuccio e intanto si serrava sempre più alla finestra e faceva mostra di studiarlo lezione ma io vedevo bene che altro che le lezione gli stava per la mente il giorno appresso mi mise a bere signor mio e ho perso il ricordo di molte cose confesso il mio peccato tutto per il dispiacere allora mammetta anche lei si mise a piangere a mammetta io le voglio un gran bene e che feci dal dispiacere finì di sborniarmi con gli ultimi soldi e grezzo signore non mi disprezzate da noi in Russia gli ubriaconi sono le persone più buone le persone più buone da noi sono anche le più ubriacone rimasi a letto e di gli USA per quel giorno non mi rammentai granché ma intanto proprio quel giorno i ragazzacci fin dal mattino cominciarono a pigliarlo in giro alla scuola strofinaccio gli gridavano tuo padre al caffè lo strascinavano per lo strofinaccio e tu appresso a piangere e a chieder perdono il terzo giorno quando tornò un'altra volta da scuola gli guardo e aveva il viso piccolo come un pugno pallido pallido che hai? gli domando non mi risponde sapete lì in castello non era il caso di discorrere se no mammetta e le ragazze ci avrebbero subito messo becco tanto più che le ragazze erano informate di tutto fin dal primo giorno e varvara nicolaievna già cominciava lei a borbottare buffoni pagliacci è proprio vero che non potete mai vivere con un po' di criterio proprio così le rispondo potremmo mai vivere noi con un po' di criterio e così per il momento lasciai la cosa in sospeso ecco che verso sera porto il ragazzo a far due passi noi due infatti dovete sapere che ogni sera eravamo abituati a fare insieme una passeggiata proprio per questa stessa strada per cui ora ci stiamo inoltrando dalla porta del nostro cortile fino a quel grosso macigno che sta lungo la strada e isolato a ridosso d'un recinto là dove incomincia il pascolo comunale un luogo remoto e tanto bello gli uscea mi camminava accanto con la sua manina nella mia secondo il solito ha una manina così piccina certi ditucci sottili freddolini sapete mi soffre di bronchite papà dice papà che c'è gli faccio io e vedo che gli occhietti gli sfavillano papà come è trattato quell'uomo papà e gli uscia mio che vuoi farci gli rispondo non ci rifar pace papà non ci rifar pace a scuola dicono che lui ti ha dato dieci rubri per aggiustar tutto no gli uscia gli rispondo denaro da lui non ne prendo a nessun patto ormai allora ebbe un fremito per tutta la vita mi pigliò la mano fra mezzo le sue e torna a baciarmela papà dice papà sfidalo a duello a scuola mi canzonano che tu hai paura e che invece di sfidarlo a duello ti fai dare da lui dieci rubri a duello gli uscia mio non posso sfidarlo gli rispondo e gli spiego in breve tutto quello che v'ho esposto al riguardo poco fa lui mi sta a sentire e poi papà mi fa papà però non ci rifar la pace diventerò grande io lo sfiderò a duello e lo ammazzerò gli occhietti gli sfavillavano gli andavano a fuoco che volete io son pur sempre un padre e bisognava che gli dicesse una parola di verità è peccato gli dico uccidere un uomo sia pure in duello papà mi fa lui papà io lo rovescerò per terra quando sarò grande gli farò cascar di mano la sciabola con la sciabola mia ma avventerò su di lui lo rovescerò per terra gli ruoterò la sciabola sopra e gli dirò ti potrai senz'altro uccidere ma ti perdono guarda lo sentite grazie al signore che piccolo processo di idee sarà sviluppato nella testolina in quelle due giornate era questa vendetta con la sciabola che aveva pensato giorno e notte e si vede che di questo la notte delirava ma da allora cominciò a tornare dalla sua scuola tutto pesto finché l'altro ieri venne a sapere ogni cosa e voi avete ragione ormai in quella scuola non ce lo mando più venne a sapere dunque che si metteva da solo contro tutta la classe e lui era il primo a provocare tutti sarà inciprignito ormai il cuore gli sarà arroventato e io allora ebbi paura per lui torniamo a fare insieme due passi papà mi domanda papà dunque i ricchi sono più forti di tutti a questo mondo sì gli dico gli uscia non c'è al mondo nessuno più forte di chi è ricco papà mi fa lui io mi arricchirò diventerò un ufficiale e sgominerò tutti quanti lo zar mi ricompenserà verrò qui e nessuno allora o sarà più rimane un momento in silenzio e poi soggiunge con quella boccuccia che seguitava sempre a tre marglie papà che città cattiva è questa qui papà mio sì gli rispondo gli uscia caro non è davvero granché di buono la nostra città papà andiamocene in un'altra città in una città di quelle buone dove noi non siamo conosciuti da nessuno ci andremo gli dico ci andremo gli uscia occorre soltanto che io metta insieme il denaro fui contento dell'occasione di distrarlo dai pensieri tristi e cominciamo a fantasticare insieme sul modo in cui avremmo compiuto il trasloco in un'altra città si sarebbe comperato un cavalluccio del nostro e un piccolo carro ma metta e sorelline le sistemeremo su col suo bravo tendone sopra e noi altri cammineremo a fianco di tanto in tanto farò salire anche te ma io verrò sempre dietro a piedi perché il nostro cavalluccio bisognerà tenerlo da conto e tutti sul carro sarebbe troppo peso in questo modo ce ne andremo via via fu tutto contento soprattutto del fatto che avrebbe avuto un cavallino suo e che lui ci avrebbe potuto viaggiare già poi si sa che il bambino russo insieme col cavallo ci nasce chiacchierammo un pezzo grazie a dio pensavo fra me sono riuscito a distrarlo a calmarlo questo fu l'altro ieri sera ma ieri sera è venuto fuori di bel nuovo al mattino era tornato alla scuola e ne era rivenuto nero nero verso sera lo piglio per mano lo porto a passeggio lui zitto non parla aveva aveva levato un po' di vento il sole sarà coperto si faceva sentire l'autunno e già cominciava a imbrunire camminavamo tutte e due eravamo tristi ebbene figlio mio che preparativi gli dico vogliamo far dunque per questo viaggio cercavo insomma di riportarlo al discorso della sera avanti lui zitto sento soltanto che i suoi ditini nella mano mia si contraggono e penso male c'è qualche cosa di nuovo così arrivamo come noi adesso a questo macigno io mi sedetti qui sul macigno ed ecco che in cielo c'erano tanti aquiloni lanciati che frusciavano e scricchiolavano e se ne vedevano una trentina sapete adesso signor mio è la stagione degli aquiloni ecco gli uscia gli dico sarebbe tempo anche per noi di lanciare il nostro aquilone dell'anno scorso ci penso io a riaggestartelo tu dove l'hai riposto rimane munto il mio ragazzo con gli occhi fissi in là voltati di fianco quando ecco che il vento comincia a ululare a rammulinare la sabbia ed improvviso lui mi si getta addosso mi si avvinghia coi suoi braccini al collo e mi stringe forte forte sapete i bambini di poche parole orgogliosi che si tengono dentro a lungo le lacrime quando poi a un tratto prorompono sopraffatti da un dispiacere troppo grosso allora le lacrime non gli scorrono gli fiottano fuori a torrenti di questi fiotti tiepidi mi bagnò così tutto il viso si inghiozzava in una specie di convulso sussultava tutto e mi serrava a sé seduto come stavo sul macigno papino mio esclamava papino mio che affronto ti ha fatto cominciai a singhiozzare anch'io stavamo seduti lì e sussultavamo abbracciati uno all'altro papino diceva papino caro e gli uscia gli dicevo io e gli uscia mi ho adorato nessuno in quei momenti ci vide signor mio e Dio solo ci vide e forse nel mio stato di servizio mi sarà computato ringraziate il vostro caro fratello Alexei Fiodorovic no per servirvi il mio bambino per dar soddisfazione a voi non lo batterò mai era tornato di nuovo dicendo quest'ultime parole all'astioso e balzano scatto di prima agli oscia però che aveva ormai confidenza in lui e che se al posto suo ci fosse stato un altro quest'uomo non si sarebbe risolto a discorrerci così e non lo avrebbe messo a parte di ciò di cui orola aveva messo a parte lui e questo ridiede spirito ad agli oscia a cui l'anima tremava di pianto che cosa non darei per poter far la pace col vostro ragazzo proruppe se voi voleste combinare un incontro perché no signor mio mormorò fra i denti il capitano ma non di questo debbo parlarvi ora debbo parlarvi di tutt'altro ascoltatemi continuò agli oscia con lo stesso tono eccitato ascoltatemi io ho una commissione per voi sempre lui mio fratello dimitri ha oltraggiato anche la sua fidanzata una ragazza distintissima della quale avrete sentito parlare io ho il diritto di parlare a voi dell'oltraggio che ha patito anzi ho il dovere di farlo dato che essa venuta a conoscenza dell'oltraggio fatto a voi e di tutta la vostra difficile situazione mi ha incaricato proprio ora poco fa di portarvi questo aiuto da parte sua ma unicamente da parte sua non già di dimitri che l'ha troncata con lei dimitri non c'entra niente e neppure io suo fratello e nessun altro al mondo è lei che ve lo manda lei sola essa vi prega di accettare il suo aiuto siete stati l'una e l'altro oltraggiati dalla stessa persona se appunto ricordata di voi quando ha patito da lui lo stesso oltraggio quanto ha gravità d'oltraggio che voi avete patito da lui è dunque una sorella che viene incontro a un fratello con un aiuto essa mi ha raccomandato precisamente di persuadervi ad accettare da lei questi 200 rubli come l'offerta di una sorella sapendo che vi trovate così in ristrettezze nessuno verrà a saperne nulla nessuna spiacevole chiacchiera potrà derivarne eccovi questi 200 rubli e per quanto c'è di più sacro voi dovete accettarli altrimenti altrimenti significherebbe che tutti debbono essere nemici l'un contro l'altro a questo mondo ma ci sono pure a questo mondo dei fratelli voi avete un animo nobile e dovete dovete comprenderlo e agli oscia gli porgeva i due fiammanti biglietti da cento iridati stavano in piedi tutte e due in quel momento presso il grosso macigno lungo quello steccato e non c'era intorno anima viva le banconote sembravano produrre sul capitano una tremenda impressione egli trasalì ma dapprima come di stupore soltanto non aveva sospettato nulla di simile e un tale esito del colloquio gli riusciva davvero inatteso che qualcuno lo aiutasse e in una misura così ingente non gli era sorriso mai nemmeno in sogno prese in mano le banconote e per un minuto non potessi può dire neanche rispondere mentre qualche cosa di completamente nuovo gli balenava sul viso è per me questo per me tutto questo denaro 200 rubli santi del cielo ma ormai sono quattro anni che debbo vedere tanto denaro oh signore e manda a dire che è una sorella ed è vero questo è proprio vero vi giuro che tutto ciò che avevo detto è verità proruppi agli oscia il capitano si fece di fuoco ascoltate mio caro ascoltate se io accetterò non farò mica una figura da vigliacco agli occhi vostri Alexei Fiodrovich non farò mica una figura da vigliacco no Alexei Fiodrovich sentitemi bene sentitemi bene incalzò subito accostandosi ad agli oscia fino a toccarlo con tutte e due le mani voi ecco mi persuadete ad accettare dicendomi che è l'offerta ad una sorella ma nell'intimo vostro di fronte a voi stesso non avrete per me un senso di disprezzo ditemi se io l'accetterò ma niente affatto no per la salvezza della mia anima vi giuro di no e nessuno ne saprà mai nulla eccettuati noi altri io voi e lei oltre a una signora che è sua grande amica importerebbe poco la signora sentitemi Alexei Fiodrovich sentitemi bene adesso è venuto il momento che è necessario star bene a sentire già che voi non potete neppure comprendere che cosa possono significare per me questi duecento rubli continuava il poveretto abbandonandosi man mano a una specie di scomposta quasi selvaggia esaltazione sembrava quasi fuori di sé e parlava in gran fretta ansiosamente come in un timore che non gli si permettesse di spiegare ogni cosa oltre il fatto che sarebbe denaro provenuto onestamente dalle mani di una sorella tanto stimata e santa sapete voi che mammetta e ninetta quel mio povero angelo gobbo la figliolina mia ora potrei curarle è venuto in casa mia il dottor Herzenstube molta sua e le ha esaminate tutte e due per un'ora sana non ci capisco un'acca ha detto ma in ogni modo c'è un'acqua minerale che da noi in farmacia si trova e lui ce l'ha prescritta che senza dubbio a mia moglie gioverebbe e in più le ha prescritto anche certi bagni medicinali ai piedi quest'acqua minerale costa 30 copeche e di bottiglie bisognerebbe berne credo io una quarantina sì che io né tanto né quanto ho pigliato la ricetta e l'ho riposta sul palchetto sotto le immagini e là già c'è ancora e a ninetta ha prescritto che faccia anche lei dei bagni caldi e non so che infuso ogni giorno al mattino e alla sera pensate un po' se si poteva eseguire una cura simile là nel nostro castello senza servitù senza aiuti senza recipienti e senza acqua e intanto ninetta è tutta reumatismi io ancora non ve l'ho detto che quando è notte la metà destra della persona le duele tutta soffre tanto e ci credete si fa forza angelo di dio per non darci troppo disturbo non si lamenta per non svegliarsi noi si mangia quel che capita quel che ci tocca e lei così prende sempre l'ultimo boccone giusto quello che si potrebbe buttare a un cane non mi merito come dire questo boccone lo tolgo a voi io vi sto qui di peso ecco che cosa si legge nel suo sguardo angelico se poi ci prestiamo per lei ne riesce gravoso non mi merito questo non me lo merito indegna inutile storpia che sono mentre invece si meriterebbe ogni premura se non altro per quella dolcezza angelica con cui ci concilia a tutti la grazia di dio che senza di lei senza la sua parola quieta in casa nostra sarebbe l'inferno e perfino varia con lei s'ammansisce ma anche quella varvara nicolaievna non vogliate giudicarla male signor mio è un angelo anche quella anche quella ha subito un torto è venuta a trovarci quest'estate e aveva con sé sessanta rubli guadagnati con le ripetizioni e messi da parte per ritorno in modo che a settembre ossia appunto ora ti sarebbe potuta riandare a Pietroburgo e invece noi ci siamo presi quei soldi e li abbiamo consumati e lei ecco fatto non ha più con che ripartire e poi è impossibile che riparta perché per noi fa un lavoro da forzata e noi l'abbiamo messa sotto come una rozza a ogni sorta di lavori si dà da fare per tutti rappezza lava spazza per terra accomoda mammetta a letto e mammetta è capricciosa mammetta è piagnucolosa mammetta è fuori di mente signor mio così ora con questi 200 rubli io posso prendere una donna di servizio lo capite Alexei Fiodorovic posso intraprendere la cura delle mie care mandare a Pietroburgo la studentessa comprare un po' di carne permettermi una dieta nuova oddio mio ma questo è un sogno agli oscia era tutto raggiante di aver procurato tanta felicità e di vedere che il poveretto consentiva essere reso felice aspettate Alexei Fiodorovic aspettate il capitano si riaggrappò a un'altra idea che d'un tratto gli aveva sorriso e ricominciò a blaterare con fretta furibonda non sapete che io e il mio agli oscia se tutto va bene realizziamo dritti dritti adesso il nostro sogno ci compriamo un cavalluccio e una carrozza proprio un cavalluccio morello lui lui pretende ad ogni costo che sia un morello e detto fatto ce ne andiamo via come si progettava l'altro giorno io nel governato di K ho un avvocato che mi conosce siamo amici di infanzia e mi ha fatto sapere da persona fidata che se andassi là lui mi darebbe sembra un posto di segretario nel suo studio e chissà che non me lo darebbe veramente così farai montare mammetta farai montare ninetta il mio agli oscia lo metterei per cocchiere e io a piedi a piedi passo passo me li porterai via tutti quanti dio mio basterebbe soltanto che riscuotessi un credituccio che mi è andato in fumo e allora forse forse arriverai per davvero anche a questo ci arriverete ci arriverete esclamò gli oscia Katerina Ivanovna vi manderà di più quanto vi occorre e poi sapete ho anch'io del denaro prendetene quanto vi serve come da un fratello come da un amico in seguito me lo restituirete ne farete voi del denaro ne farete del denaro e lo sapete che non potevate proprio immaginare niente di meglio che questo progetto di trasferirvi in un altro governatorato questa sarà la salvezza vostra e soprattutto del vostro ragazzo ma purché sapete non vada per le lunghe e vi montiate prima dell'inverno prima dei freddi e di là poi ci scriviate e si rimanga fratelli no queste non sono fantasticaggini Agli oscia avrebbe voluto abbracciarlo a tal segno era soddisfatto ma quando gli ebbe dato un'occhiata si trattenne di colpo quello stava là ritto in atto di sporgere il collo di sporgere le labbra alterato e sbianchito in viso biascicando qualche cosa fra le labbra come se volesse parlare non gli usciva suono di sorta e intanto con le labbra continuava a biascicare in un modo alquanto sconcertante ma che avete trassalì Agliosha in un oscuro presentimento Alexei Piodorovic io voi borbottò a scatti il capitano fissandogli addosso uno sguardo strano e stralunato con l'aria d'uno che ha deciso di buttarsi giù da un precipizio mentre pure sulle labbra gli vagava una specie di sorriso io per servirvi voi per servirvi non vi farebbe piacere insomma se Aurora vi mostrassi un bel giochetto d'improvviso riuscì a mormorare rapido e spedito senza che la parola gli si spezzasse più che giochetto intendete così un giochetto un piccolo gioco di prestigio continuava a mormorare il capitano la bocca gli sarà torta verso sinistra l'occhio sinistro gli sarà chiuso e non staccava lo sguardo da Agliosha come se qualche cosa lo incatenasse a lui ma che vi succede di che gioco si tratta proruppi Agliosha sopraffatto dallo spavento ecco di che si tratta guardate si bilò d'improvviso il capitano e mostrandogli i due biglietti ridati che nel corso di tutta la conversazione aveva sempre tenuti stretti per un angolo fra il pollice e l'indice della destra in una specie di repentino accanimento li agguantò li aggomitolò e gli pigiò forte nella destra serrata a pugno avete veduto avete veduto si bilò ad Agliosha pallido e sbigottito e a un tratto levando alto il pugno e di tutta forza scaraventò i due biglietti tutti guelciti fra la sabbia avete veduto signor mio si bilò ancora indicandoli col dito ebbene ecco qua per servirvi e già sollevando il piede destro con folle rancore si era slanciato a pestarli col tacco rompendo in esclamazioni affannose a ogni colpo di tallone eccoli i vostri soldi per servirvi eccoli i vostri soldi eccoli i vostri soldi poi di colpo diè un balzo indietro e si arese tutto di fronte ad Agliosha tutta la sua figura esprimeva un'indicibile fierezza riferite a chi va mandato che lo strofinaccio non vende il suo onore gridò stendendo il braccio a mezz'aria dopodiché rapidamente si girò su se stesso e si buttò a correre ma non si era allontanato di cinque passi che rigirandosi in qua fece ad Agliosha addio con la mano ma poi di nuovo non aveva corso altri cinque passi che si voltò ancora una volta e non aveva stavolta quel riso contratto sul viso ma era tutto squassato dal pianto lacrimosa rotta soffocata la sua voce gridò in fretta e che cosa avrei detto al mio bambino se avessi accettato da voi per nostra vergogna e denaro e detto questo si buttò a correre per non voltarsi mai più Agliosha lo seguì con lo sguardo in una inesprimibile tristezza capiva egli che fino all'ultimo momento quell'uomo non sapeva che avrebbe gualcito e gettato via le banconote correva intanto senza voltarsi mai e Agliosha sapeva che non si sarebbe voltato più corrergli dietro e richiamarlo gli ripugnava senza che forse sapesse bene perché quando non si vide più alzò su da terra le due banconote erano soltanto assai gualcite incicignate e pestate fra la sabbia ma senza nessuno strappo e anzi scricchiolarono come nuove quando Agliosha le spiegò e le lisciò spianate che le ebbe le accomodò una sull'altra se le infilò in tasca e s'avviò da Caterina Ivanovna a informarla dell'esito della sua missione a M a a a a Grazie a tutti